Buongiorno a tutti, benvenuti all'ultimo incontro di Scienze e Fantascienze 2018. Oggi è un incontro un po' speciale, non solo perché abbiamo più relatori, ma perché parliamo di un tema che è già interessante in sé, che è l'esplorazione di Marte, passata, presente e futura, ma anche perché parleremo di una scoperta recentissima, è veramente molto importante, che poi potrebbe diventare addirittura storica, se per caso fosse davvero qui il luogo dove per la prima volta troveremo una forma di vita extraterrestre, stiamo parlando della scoperta del primo lago di acqua liquida trovato su un altro pianeta, che tra l'altro è una scoperta tutta italiana, perché è stata fatta, sì, nell'ambito di una missione dell'Agenzia Spaziale Europea, però da un apparecchio, un radar in particolare, che è stato progettato, costruito e gestito interamente da scienziati italiani dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Per questo siamo riusciti ad avere con noi due responsabili della missione, che sono Enrico Flamini, che ha lavorato fino a poco fa all'Agenzia Spaziale Italiana, adesso si è pensionato, ma continua comunque anche a insegnare l'Università di Chieti Pescara e Roberto Rossai dell'INAF, che appunto sono stati i due che hanno diretto questa missione, ci racconteranno com'è andata tutta questa faccenda. E poi c'è con noi Carla Monticelli, anzi Rita, Carla Francesca Monticelli, che è una scrittrice di fantascienza, posso dire anche una grande scrittrice, che fa una fantascienza anche di tipo abbastanza realistico, quindi in particolare ha fatto un bestseller marziano, una saga marziana in diversi capitoli, che poi sono stati unificati in un unico volume, Deserto Rosso, che io ho letto e mi è piaciuto davvero molto, che ha fatto anche in stretto, dialogando molto con l'astronato Luca Parmitano, tra le altre cose che le ha dato vari consigli, quindi sicuramente, poi è biologa di formazione, per cui abbiamo deciso di lasciare a lei l'introduzione, ci racconterà un po' come è stata immaginata appunto nella fantascienza, compresa la sua, ma non solo, l'esplorazione di Marte, la vita su Marte. Dopodiché passeremo appunto dalla immaginazione alla realtà con Enrico Flammini e poi Orosei. Avremmo dovuto avere con noi anche Piero Benvenuti, che è stato fino a poco fa segretario generale della IAU, cioè della International Astronomical Union, l'associazione di tutti gli astronomi del mondo, è stato il primo italiano a ricoprire questa carica così importante, solo che purtroppo, per un verso purtroppo o per un altro, dobbiamo essere contenti per lui, perché è un'altra carica molto prestigiore, che gli è stata data pochi giorni fa, perché è stato nominato commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana, che si è trovata senza presidente, e in attesa di nominare il nuovo presidente, hanno messo lui come commissario, che è un incarico di grande prestigio, indubbiamente, però anche molto impegnativo, che gli è provato oltretutto del tutto inaspettato, per cui lui ha provato a vedere se riusciva a liberarsi, ma davvero non è stato possibile, si scusa e ci saluta a tutti, ma comunque sicuramente troveremo il modo, gli ho già detto che non se la cacosi, che l'anno prossimo trova il modo di farlo venire, era già venuto qui due anni fa, quindi sicuramente tornerà. In ogni caso il suo tema, che era l'esplorazione futura di Marte, non verrà in ogni caso trascurato, perché ci penseranno comunque i nostri due relatori, che gentilmente hanno accettato di sobbarcarsi anche questo impegno, per cui parleremo comunque di tutti gli argomenti previsti. A questo punto, ricordo ancora, anche se penso che più o meno tutti l'abbiano fatto, qualcuno ancora avesse bisogno, che è arrivato all'ultimo momento, avesse bisogno dell'attestato per l'incontro di oggi, che sia dell'insubria o che sia anche di una scuola esterna, c'è sempre Francesco Bertogli in prima fila, vada da lui. Detto questo, io solo annuncio, come sempre, in occasione dell'ultimo incontro, il tema dell'anno prossimo, che in questo caso non è che ci fosse molta scelta, perché sono i 50 anni dello sbarco sulla Luna e quindi si parlerà della Luna inevitabilmente. Il titolo sarà Cosa resta della Luna, nel senso che è una domanda senza punto interrogativo, nel senso che certamente è una domanda anche legittima, devo chiederselo perché quando c'era stato lo sbarco sulla Luna, per chi l'ha vissuto sembrava che fosse l'inizio dell'esplorazione dello spazio, invece è stata la fine, almeno per ora. Poi adesso magari vedremo, il passo seguente deve essere Marte, e finora non ci siamo andati, i nostri amici adesso ci diranno magari qualcosa di più su questo, però è un dato di fatto che quando anche ci dovessimo andare domani, e di sicuro ci vorrà di più, ma ci dovessimo andare anche domani, saremo comunque molto in ritardo rispetto a quelle che erano le attese. Quindi indubbiamente c'è stato, per varie ragioni, in parte anche perché ci si è resi conto che era più difficile del previsto, però non è probabilmente solo per questo, c'è stato un po' un blocco, anche un po' un calo di interesse, probabilmente varie ragioni, su cui appunto ci interrogheremo anche l'anno prossimo, sul calo, su questo blocco della corsa allo spazio, e in questo senso è lecita anche un po' chiedersi che cosa è rimasto, però in realtà molto è rimasto, anche se magari a prima vista può sembrare di no, ma a cominciare dallo sbarco stesso, il fatto in sé che siamo andati sulla Luna è già una cosa enorme e sicuramente cercheremo, troveremo un modo di rievocare questo avvenimento e poi vedremo anche le tante altre cose che la Luna ci ha lasciato. Detto questo, a me non resta che ringraziare ancora i nostri relatori, in particolare Enrico Flammini, che è venuto nonostante sia pesantemente influenzato, ma ha voluto esserci lo stesso, quindi sembra giusto ringraziare tutti, ma lui in modo speciale, e do la parola a loro, cominciando appunto da Carla Monticelli, che può venire, può parlare lì, può venire qui come preferisce. Io mi accomodo come sempre tra il pubblico per ascoltarvi. Grazie ancora. Buon pomeriggio, io parlo qui perché tanto non devo mostrare niente, devo solo parlare. Come dicevamo prima, io scrivo, quindi non ho tante cose da mostrare visive, ma più che altro parole da dire. La mia presenza qui, insieme a questi scienziati, diciamo è dovuta al fatto che, oltre all'argomento comune, che è Marte ovviamente, è che io scrivo un tipo di fantascienza che si chiama fantascienza hard, cioè fantascienza che si basa sulla scienza reale. Io immagino un futuro in cui la scienza narrata in questo futuro sia almeno plausibile, ha dei fondamenti sulla scienza del presente. E diciamo che in questo modo io e loro, e chi come noi, altri autori come me, altri scienziati come loro, facciamo parte dello stesso circolo virtuoso in cui c'è chi appunto fa ricerca, la ricerca, i risultati della ricerca stimolano la fantasia di chi scrive e le nostre storie, le storie di chi scrive appunto vengono lette dai lettori che a loro volta si incuriosiscono su argomenti di natura scientifica e si interessano al loro lavoro. E questo è un continuo circolo virtuoso che si autoalimenta continuamente, perché poi c'è appunto la fantascienza che si ispira alla scienza e la scienza che si ispira alla fantascienza continuamente. In questo caso appunto l'argomento è Marte che è senza dubbio il pianeta che ha ispirato forse più fantascienza in assoluto perché Marte è abbastanza vicino alla Terra e lo vediamo periodicamente abbastanza bene ma soprattutto per il suo colore rosso che lo rende così facilmente distinguibile da qualsiasi altro pianeta o comunque astrovisibile dalla Terra anche a occhio nudo. Per esempio appunto già la scorsa estate che c'è stato la grande opposizione di Marte è stato vicinissimo alla Terra tra virgolette vicinissimo 57 milioni di chilometri che però l'hanno reso un oggetto diciamo visibile molto visibile nella notte e poi chiaramente d'estate e questo ha reso le cose anche più semplici. Osservare Marte è qualcosa che stimola la curiosità diciamo più o meno di chiunque soprattutto di chi magari è una fantasia un po' fermida come appunto un autore. Marte come detto è particolare è rosso ma non solo rispetto che so per dire a Venere che è anche più vicino teoricamente lo possiamo vedere molto meglio perché a differenza di Venere è un'atmosfera più sottile o più osservabile tramite telescopio ha le sue caratteristiche già visibili come le calotte polari il gran canyon questo grande canyon di Valles Marineris che lo rende facilmente insomma riconoscibile dall'osservazione da lontano e ancora di più poi chiaramente nel tempo come abbiamo mandato sonde rover e così via e quindi lo vediamo sempre di più soprattutto poi negli ultimi decenni almeno per quanto mi riguarda dagli ultimi vent'anni che ho all'esposizione internet e quindi praticamente l'osservazione di Marte è qualcosa che fa parte della mia quotidianità accendo il computer vado lì e leggo tutti questi articoli è normale che questa fascinazione verso il pianeta rosso venne sempre più alimentata ed è appunto alimentata ricordo dal fatto che almeno personalmente dovendo parlare della mia esperienza mi ricordo le prime foto che ho visto di Marte dalla superficie soprattutto le foto quelle non quelle diciamo precedenti di quando ero troppo piccola per apprezzarle ma insomma già da adulta in occasione della missione Pathfinder dalla NASA ricordo queste immagini rimanate dal piccolo rover Sojourner le osservavo e dicevo questo è un altro mondo non è la Terra eppure sembra un paesaggio desertico della Terra e qui da qui questa somiglianza che è proprio evidente stimola proprio la fantasia nel cercare di immaginare l'uomo in questo pianeta che appunto è un pianeta che è tanto simile ma tanto diverso è simile perché sì è un pianeta roccioso perché ha un'atmosfera sebbene molto più sottile perché ha un giorno che dura quasi come il nostro 24 ore 39 minuti il sol marziano ha quattro stagioni come la Terra perché ha l'asse inclinato più o meno quanto quello della Terra però è anche profondamente diverso perché è un pianeta come detto desertico è un desertico perché perché l'atmosfera è molto sottile il pianeta è più piccolo perché è un raggio più piccolo ha una gravità inferiore da 7% quindi l'atmosfera sfugge poi manca appunto la magnetosfera che la Terra rende possibile cioè protegge diciamo la Terra dai raggi cosmici questo pianeta desertico è desertico perché non ha l'acqua liquida in superficie perché le condizioni di pressione non lo rendono possibile e quindi la superficie di Marte è tra virgolette stelle o comunque lo diventerebbe in qualsiasi istante se qualcosa ci arrivasse e quindi è profondamente diverso eppure Marte non è sempre stato così diverso ci sono dei segni evidenti del fatto che su Marte in passato ci fosse acqua ci fosse acqua liquida non si sa ancora se fossero stati appunto oceani o laghi comunque c'erano fiumi e questo era evidente osservando la geologia che si osserve anche adesso e quest'acqua poi quindi se c'era acqua l'atmosfera era più spesa c'era più caldo poi però appunto questo nel tempo stiamo parlando di miliardi di anni ma diciamo questo fenomeno si è svolto diciamo in centinaia di milioni di anni non si sa di preciso tutta quest'acqua in superficie appunto è andata via è sparita però appunto c'era prima in un periodo paragonabile a quello in cui su Marte sulla Terra è nata la vita questa cosa mi interessa particolarmente perché poi tra l'altro io oltre ad essere una scrittura di fantascienza sono biologa e sono quindi appassionata di estrobiologia che è quella la branca della biologia che studia origini della vita sulla Terra ovviamente perché è l'unica che si conosce ma eventualmente anche su altri astri e quindi la domanda è c'è ancora appunto acqua su Marte come vedete appunto la risposta è sì dove si trova ve ne parleranno di più loro ma appunto se c'è l'acqua allora c'è vita su Marte chiaramente io che scrivo romanzi non sono evitata dalla scienza cioè la scienza per me è solo un punto di partenza posso immaginare di andare su Marte di andare a cercare quell'acqua di trovare acqua di trovare anche la vita e nel mio caso lo faccio appunto cercando di basarmi sulla scienza che esiste adesso immaginando che fra 50 anni si sia evoluto in maniera tale permettere di fare queste scoperte sperando appunto ovviamente io posso immaginare che la vita ci sia perché tanto fra 50 anni insomma chi lo sa e quindi quello che è successo che appunto io come vi ho detto appassionata di esplorazione spaziale biologa mi sono ritrovata e questo è stato sette anni fa nel 2011 quando partiva la missione del rover Curiosity della NASA che è arrivato poi su Marte nell'agosto 2012 che tuttora scorrazza sulla superficie di Marte ci manda bellissime immagini e insomma oltre a questo anche tantissime altre informazioni interessanti mi sono trovata grazie anche a internet a interessarmi ancora di più al pianeta rosso e a leggere di più ecco l'interesso e leggo scopro voglio scoprire di più in particolare voglio citare appunto due libri che ho letto che sono entrambi di Robert Zubrin il fondatore della Mars Society che uno è un saggio The Case for Mars che proprio parla di Marte e più in generale e della sua teoria per andare appunto su Marte che si chiama Mars Direct l'altro però è un romanzo di fantascienza hard che in Italia non è stato mai pubblicato sempre di Robert Zubrin che si chiama First Landing cioè primo atterraggio su Marte e lui immagina l'atterraggio di primi uomini su Marte che vanno inizialmente a esplorarlo e poi invece alla fine si trovano a colonizzarlo basandosi sulla scienza di quel momento il libro è del 2002 quindi già anche abbastanza vecchio tra virgolette eppure diciamo in gran parte attendibile insomma anche adesso e questo mi ha stimolato ancora di più mi ha fatto nascere un'immagine in testa perché poi inizia così raccolgo un sacco di informazioni dall'esterno e poi mi si apre un'immagine in testa che è quella di un astronauta in questo ambiente desertico che è appunto Marte è da solo che sta vagando e mi sono chiesta dall'immagine scatta la domanda cosa ci fa lì cosa sta facendo cosa sta cercando la risposta a questa domanda poi è la storia che è stata generata dalla mia fantasia che è quella appunto di cui ha parlato prima del professor Musso il deserto rosso che inizialmente doveva essere un racconto poi mi sono un po' lasciata andare è diventato il primo di una serie di quattro libri e poi non parla di questo questa raccolta è il primo di un ciclo più ampio che si chiama il ciclo dell'Aurora però al di là di questo senza entrare insomma al dettaglio proprio questo ho immaginato tra una cinquantina di anni questa stazione Alfa dove ci sono i primi astronauti che sono atti vivere su Marte che hanno deciso di passare addirittura di colonizzare Marte e restarci per il resto della vita almeno in teoria poi insomma le cose andranno un po' diversamente come sempre ci sono sempre dei problemi e nel farlo si imbatteranno appunto nell'acqua e si imbatteranno anche nella vita su Marte diciamo che all'interno di questa storia che ha lo scopo ovviamente come tutte queste storie di intrattenere il lettore ci sono una serie di elementi invece più scientifici che poi raccolto da tutte le cose che ho letto e imparato tramite le missioni della NASA dell'ESA negli anni precedenti e ho mostrato una serie di elementi tipici di Marte per esempio faccio un esempio tra tutti per esempio le tempeste di polvere che è un altro elemento interessante proprio perché proprio quest'anno ce n'è stata una globale che ha direttamente avvolto tutto il pianeta rendo anche peggiore la sua visualizzazione attraverso da noi proprio nel periodo in cui c'è la massima vicinanza e che ha creato non pochi problemi per esempio al povero rover Opportunity che è rimasto senza energia per via del fatto che questa polvere nell'atmosfera ha ridotto tramite tanto radiazione solare sui paesi solari che appunto si è spento il piccolo rover non sappiamo se riusciremo mai più a avere le sue notizie e l'ho voluta raccontare dal punto di vista di questi astronauti che invece vivono questa tempesta di polvere sulla superficie di Marte quindi non più vista dall'esterno come abbiamo visto adesso ma proprio la mente di questi personaggi attraverso cui appunto arrivo direttamente nella mente del lettore mostrare il lettore attraverso i personaggi Marte in questo caso come questa tempesta di polvere non sia un evento drammatico che il termine tempesta suggerisce ma proprio semplicemente appunto semplicemente le virgolette la presenza di una grande quantità di polvisco in atmosfera che riduce l'illuminazione la visibilità a distanza ma che può creare anche una serie di problemi soprattutto se si avviene appunto continua per diverse settimane o mesi per esempio a una stazione un habitat per esseri umani che essendo esposto a questa tempesta tanto tempo succede che praticamente questa polvere riesce in qualche modo a penetrare che magari problemi a chi ci sta all'interno per fare un esempio oppure allo stesso modo ho mostrato che so un'altra cosa che è stata scoperta di recente dall'orbiter Maven della NASA è che quanto pare su Marte sono visibili dell'aurore blu che potrebbero essere visibili addirittura dalla superficie e allora in uno dei miei libri non nel riserto rosso ma in uno successivo uno dei miei personaggi si osserva questa aurora dalla superficie questa aurora blu e quindi ho cercato di immaginare cosa può essere al buio su Marte vedere quest'aurora blu che sensazioni può dare e ho cercato di fare in modo lo scopo è quello che il lettore sperimenti Marte quasi sulla sua pelle in questo modo si diverte chiaramente perché è una storia ma allo stesso tempo quelle informazioni che sono invece corrette sono scientifiche rimangono impresse facilmente nella sua memoria proprio perché lo fa in maniera piacevole ecco non è una cosa che viene imposta o qualcosa di freddo come un articolo ma appunto è come se vivesse Marte in prima persona e si vede quindi conoscesse Marte in prima persona e diciamo appunto questa la fantascienza unisce proprio l'aspetto di intrattenimento a quello per così dire divulgativo e da una parte per chi la scrive è una specie di sfida voglio mettermi su Marte e come faccio a fare delle cose una volta che sono lì e in questo modo mi ritrovo anche a mostrare in questo caso Marte qualsiasi altra cosa un altro aspetto scientifico target scientifico possibile al lettore che alla fine quando chiude il libro magari non ricorderà bene tutta la storia però le cose che ha sperimentato tra virgolette attraverso i personaggi le rimarranno impresse sulla mente e magari avrà voglia di approfondire quell'argomento non a caso alla fine i miei libri metto sempre una bibliografia con dei suggerimenti per altre letture e smetteranno appunto a leggere altri libri oppure a seguire il lavoro dei licenziati che si occupano veramente appunto dell'esplorazione di Marte adesso è la fantascienza hard che poi in realtà è una gradazione nel senso che tra soft e hard è una gradazione in quanto si è più hard quando la parte scientifica diventa molto molto precisa man mano che ci si prendono delle licenze ci si allontana proprio dall'estremità però chiaramente forse la sfida è riuscire a mettere delle cose scientifiche e mescolarle a licenze o robe fantasiose e far sì che chi legge non è in grado poi di capire è proprio la differenza precisa cioè si può arrivare a credere che quella mia estrapolazione sarà appunto vera nel futuro chiaramente perché si parla poi appunto nel futuro la fantascienza hard poi chiaramente è riferita al periodo in cui uno la scrive è chiaro che le scoperte scientifiche avvengono tutti i giorni quindi quello su cui mi baso adesso potrebbe essere smettito domani però rimane comunque giusto l'intento quello di basarsi su quello che è vero adesso e poi immaginare su questo la scienza futura scusate e come me ovviamente a parte la mia esperienza ci sono tanti autori di fantascienza che hanno preso come come soggetto Marte che l'hanno fatto con un intento diciamo anche di fantascienza cioè di mantenere una scienza plausibile ora al di là di tanti tanti esempi cito in particolare un esempio abbastanza recente che è la trilogia di Marte di Kinstall e Robinson che i libri sono il rosso di Marte il verde di Marte il blu di Marte che sono stati tradotti in italiano da poco tutti quanti e lui nel suo caso racconta in questa trilogia immensa che è un'opera di fantascienza art veramente forse come si fa la scienza su Marte questo è l'esempio di Robinson lui racconta chiaramente la terraformazione di Marte però al di là di questo discorso che va proprio molto sul futuro il primo libro in particolare il rosso di Marte racconta Marte praticamente come è adesso il libro è del se non erro del 92 quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa però nonostante questo rimane ancora oggi diciamo valido nel suo intento racconta le storie di questi astronauti che sono centinaia di persone che sono andate a vivere su Marte è suddiviso in parti e ogni personaggio è protagonista di una parte però in realtà la storia in un certo senso è un pretesto per approfondire poi la conoscenza del pianeta rosso poi spostandoci vent'anni più avanti che è un esempio un po' più serioso tra virgolette ma ugualmente molto rigoroso che è quello dell'uomo di Marte o The Martian sopravvissuto The Martian come volete chiamarlo voi che hanno fatto anche il film di Andy Weir che è un romanzo di Fantascience Hard del 2012 uscito nel 2012 sotto forma di romanzo ma in realtà scritto l'anno precedente appuntate sul suo sito Andy Weir ha scritto questa storia di un astronauta dato per morto e abbandonato su Marte lui voleva dimostrare se fosse possibile che un uomo abbandonato su Marte con mezzi per vivere per 31 giorni fosse in grado di con le sue conoscenze scientifiche sopravvivere invece 400 giorni con quella con cui aveva disposizione per scrivere questo romanzo lui si è basato sull'aiuto di scienziati cioè non è affatto tutto da sé ha studiato infatti la storia è stata sviluppata forse in un anno di puntate e alla fine è venuto fuori una storia divertente perché il personaggio è molto simpatico molto divertente però anche molto ricca dal punto di vista scientifico addirittura in alcuni passaggi ci sono addirittura dei calcoli ovviamente anche se non si è in grado di comprendere tutti gli aspetti le minuzie si riesce comunque a seguire tutta la storia e è riuscito a dare una risposta a questa domanda in teoria in base alle conoscenze scientifiche attuali tenendo conto di qualche licenza quella ovviamente è un po' di fortuna sarebbe appunto possibile con questi mezzi appunto questo astronauta riuscirebbe a sfruttare ciò che è presente su Marte per sopravvivere fino a che qualcuno appunto non viene a prenderlo a recuperarlo nel caso di Wehring c'è anche una licenza molto grossa all'inizio perché il suo assunto a cui si passa la storia non è proprio corretto perché secondo la sua storia è stata una tempesta di polvere proprio a provocare la fine della missione mentre invece sappiamo che queste tempeste di polvere in realtà non sono eventi così catastrofici non avrebbero rischiato di far cadere nessun nessun veicolo spaziale perché non sono così potenti però vabbè all'interno di questo picco licenza che si è presa la storia è molto rigorosa e tornando appunto al discorso dell'assunto di una storia torno per un ultimo momento dico un'ultima cosa su appunto il deserto rosso l'assunto della mia storia invece era appunto che su Marte c'è ancora acqua ma soprattutto che quest'acqua si trova sottoterra che è un'idea già sfruttata da altri utori non sono certamente io la prima ma la cosa bella è che pochi anni dopo ecco che viene trovata la prima volta l'acqua liquida sottoterra su Marte ed ecco due scienziati che fanno parte appunto di questo team che l'ha scoperta per cui sono ben felice di essere qui con loro che hanno confermato che ci ho preso e vai e quindi lascio volentieri la parola a loro passiamo dalla fantascienza alla scienza vera molto bene allora ringrazio tantissimo Carla per l'introduzione diamo la parola immediatamente a Enrico Flammini che comincia a parlarci di Marte allora devo switchare si spegnete ok accendiamo questo si è questo tutto posto si perfetto si devo dire che per vari motivi in fondo siamo un po' tutti noi scienziati che meno tutti quelli con cui ho avuto il piacere di parlare di lavorare un po' figli delle letture giovanili tipo quelle di Jules Verne e poi quelle successive in qualche maniera hanno formato l'interesse hanno formato quella parte di fantasia che poi serve quando si sta sul pezzo sul lavoro ovviamente cambiandone l'ottica quando mentre facevo fisica ho cominciato a vedere le leggi della natura e i limiti delle leggi della natura quei limiti che vengono imposti eventualmente a una fantasia eccessiva ma la lunga strada di Marte possiamo farla cominciare ragionalmente a parte con le prime osservazioni di Schiaparelli di realtà questa che vedete qua è giusto la mappa le mappe disegnate da Schiaparelli al suo telescopio erano mappe anche molto dettagliate piccolo problema non erano accurate nel senso che non rispettavano esattamente quello che poi Marte invece era ed è nella realtà per vari motivi alcuni motivi li vedremo tra poco intanto cominciamo a dire sistema solare questo è il sistema solare pianeti interni terrestri pianeti esterni gassosi Marte è l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre è l'ultimo pianeta roccioso o dominato dalle rocce quindi del nostro sistema solare partendo dal sole gli altri sono molto diversi gas freddi tuttavia la maggior parte dell'acqua del sistema solare non sta nell'interno ma sta nell'interno del sistema solare l'esterno del sistema solare buona parte dei satelliti di Giove e di Saturno sono fatti di ghiaccio d'acqua e anche di acqua liquida molto poco sfruttabile anche in un futuro più o meno remoto va bene quindi Marte è lui Marte è sempre colpito fin dall'antichità la fantasia perché come diceva prima la nostra amica scrittrice si vede bene la terra in certi momenti è particolarmente luminoso è rosso e si vede la differenza anche se ormai nelle nostre città con l'inquinamento luminoso si vede sempre di meno quello che si dovrebbe vedere ma se vi capita o se vi è mai capitato di stare o in montagna in una bella notte serena o in un deserto questo si vede bene ed è il motivo per cui nell'antichità dai sumeri fino agli etruschi eccetera è sempre stato in qualche maniera questo essere rosso anche il simbolo della guerra o del sangue comunque e quindi ha portato con sé sempre questa valenza di forza non a caso per i greci era il dio della guerra poi arriva Schiaparelli e si mette a osservare molto bene a Marte si mette a osservare con un telescopio molto potente il migliore è tuttora uno dei più grandi telescopi di tipo rifrattore ovvero lenti che si è non è stato realizzato un metro di lente che ancora potete osservare al museo della scienza a Milano l'hanno restaurato da poco quindi è di nuovo visibile e che viene realizzato peraltro grazie anche alla intuizione politica di Quintino Sella che sovvenziona la realizzazione di questo telescopio anche in un momento in cui l'Italia è tanto per cambiare e sta in crisi economica ma diciamo aveva quella capacità di vedere oltre per una nazione che stava ancora nascendo ed emergente dell'importanza della scienza e della ricerca per poter diventare una nazione che poteva poi competere con le altre nazioni industriali ma Schiavarelli fa tutte queste osservazioni e disegna una mappa una mappa piuttosto elaborata nella quale individua una serie di strutture che chiama canali non può utilizzare nessun'altra parola in italiano canale sia naturale che artificiale viene utilizzata la parola canale e su questa base anche Percival Lowell invece un ricco privato americano molto ricco si fa costruire un altro telescopio estremamente potente ma suo personale e si mette a osservare e essenzialmente osserva le stesse cose anche lui vede una serie di strutture alcune più o meno curvilinee apparentemente naturali altre molto più rettilinee apparentemente di tipo artificiale su questo discorso dei canali comincia a esserci un po' di confusione perché mentre in italiano canale appunto è indifferenziato il canale della manica o il canale di scolo sempre canale in inglese le termini channel e canal sono termini che hanno una differenza sostanziale canale è fatto dall'uomo channel è naturale e su questa ambivalenza probabilmente anche perché poi faceva anche un certo comodo ai giornalisti vengono pubblicati degli articoli sul riviste su un giornale più giornali negli Stati Uniti e quindi comincia a nascere il fatto e l'idea che ci siano delle civiltà tali per cui possano essere pensate costruite delle strutture di tipo artificiale e cominciamo con 1898 quindi The Wars of War fino ad arrivare agli anni 50 con Ray Bradbury The Martian Chronicles ma quello che vorrei farvi notare sono tutti i romanzi di Burroughs che era quello che ha scritto anche Tarzan delle Scimmie e che quindi si sposta un po' come attenzione perché quello era l'argomento caldo del momento come continua ad essere l'argomento caldo di oggi e si immagina questo Marte Princess of Mars che è un bellissimo romanzo salta il discorso di come si arriva su Marte e si dice semplicemente che il protagonista arriva in una grotta nella grotta che stanno dei fumi lui si addormenta però si risveglia su Marte quindi si elimina il problema del viaggio dei sei mesi di viaggio e di quant'altro ma nel momento che arriva su Marte si ritrova con un pianeta arido in cui la popolazione locale è stata bravissima a utilizzare le poche risorse idriche che ci stanno su Marte e i canali sono l'idea proprio dell'utilizzo ottimale delle risorse idriche di Marte questa è la parte più interessante di uno scritto peraltro nel 1917 quello che sappiamo oggi è che questo è quello che in effetti si può osservare con un telescopio molto più potente di quello che aveva Schiaparelli o Lowell di Marte e vedere la differenza tra il 2001 per esempio e giugno e il settembre dello stesso anno ora il fatto che Schiaparelli vedessi i canali che c'erano e a volte non c'erano e così le altre strutture in effetti derivata a questa particolare di Marte che ci ha accennato prima nella presentazione di prima è il fatto che Marte ogni tanto è soggetto a tempeste globali di polvere le polveri sono molto sottili parliamo PM10 PM20 PM5 quindi quelle che normalmente noi consideriamo polveri di tipo inquinante come è di fatto sulla Terra che vengono portate nell'alta atmosfera e che nell'alta atmosfera risiedono per molto tempo durante più le tempeste non sono quelle appunto di The Martian non abbiamo come nelle tempeste di polvere della Terra particelle solide abbastanza grandi che possono urtare e distruggere qualcosa però con la rifrazione della luce fanno sì che della superficie di Marte non si veda più niente a parte i chiarori dei ghiacci dei poli anche sulla superficie Marte è un pianeta in cui la polvere gioca un ruolo importantissimo è un pianeta vivo qui vedete presi dai Mars Explorer Rover delle quelle che si chiamano Dust Devils che sono dei mulinelli di polvere che si muovono sulla superficie di Marte si muovono lasciano tracce peraltro anche visibili da satellite arrivano fino a centinaia di metri d'altezza di nuovo però sono polveri sottilissime ovviamente otticamente visibili ma non certo tali da danneggiare qualcosa è ben più difficile invece arrivare su Marte e atterrare ancora di più qui abbiamo un po' il panorama tra il 1960 anno della prima missione e il 2011 e se andiamo a colorare e vedere quali sono quelle che hanno avuto successo e quelle che non hanno avuto successo vi rendete conto che i pallini rossi sono leggermente quindi quelle che non hanno avuto successo sono un po' di più dei pallini verdi soprattutto nella prima parte della storia di Marte ora la prima parte della storia di Marte sono soprattutto missioni sovietiche e qualcuna americana la prima americana che ha veramente successo è il Mariner 4 che però manda pochissime immagini sulla terra diciamo quella che forse è più significativa è il Mariner 7 Mariner 9 e il Mariner 7 successivi e poi invece nell'ultima parte della sua storia vedete che ci sono molti pallini verdi un altro rosso che di nuovo è una missione russa e poi arriviamo a Curiosity nel 2011 e andando a vedere un attimo a Mariner 4 abbiamo veramente le prime fotografie e scopriamo che non ci stanno canali a quel punto lo sappiamo i canali non ci stanno abbiamo levato purtroppo questa cosa ci sono dei crateri di impatto quindi in qualche maniera la superficie di Marte è un po' simile a quella della Luna e come tutti gli altri corpi del sistema solare come abbiamo imparato successivamente che hanno una superficie solita e ci sono forse delle zone in cui ci stanno brine e sicuramente zone che ci stanno ghiaccio ovvero i poli e le brine che si posano un po' ovunque Maria Ernover ci dà una cartografia completa di Marte e ci dà anche i primi indizi ci fornisce i primi indizi che probabilmente su Marte ci sono state delle acque permanenti e che scorrevano sulla superficie e poi arriviamo al 1976 un turning point un punto di svolta importante dei Viking 1 e 2 i primi due oggetti che terrano sulla superficie di Marte e che portano una strumentazione molto complessa e possono misurare temperature e composizione dell'atmosfera sopravvivono a una tempesta di polvere dimostrando che le tempeste di polvere sporcano un po' ma neanche più di tanto tra l'altro la polvere di Marte non si appiccica ai pannelli solari come invece quella per esempio della Luna che è estremamente sticking si attacca perché carica dal punto di tetrostatico mentre quella di Marte no vede il permafrost fa misure di permafrost e fa anche delle misure di presenza di forme di vita purtroppo tre strumenti su ambe due le sonde non hanno mai funzionato anzi due non hanno mai funzionato uno ha dato risultati molto incoerenti e l'altro che su una delle due sembra aver dato risultati invece di presenza di vita è stato fortemente contestato perché in effetti il grado di sterilizzazione di quegli strumenti non era proprio chiarissimo in giù vedete la prima immagine che è arrivata che sta del Mariner 4 non è proprio bellissima ma all'epoca non c'erano neanche vagamente le macchine fotografiche anche quelle commerciali che usiamo oggi quelle fatte con un tubo catodico con un vitico con tutte le limitazioni del caso e questo è il sito di atterraggio del Viking 1 il primo la prima traccia che abbiamo della superficie di Marte vista dalla scena facciamo un salto e arriviamo passato curiosity agli ultimi tre invece che sono MAVEN analisi dei gas traccia in particolare la ricerca del metano oltre al fatto che ci ha dato indicazioni sul fatto che mentre i tramonti su Marte sono molto e sempre rossi le albe possono avere delle colorazioni più chiare e azzurre poi nel 2016 ExoMars col Trace Gas Orbiter di nuovo analisi gas atmosferici e cartografia 3D del pianeta vedete che l'ho messo parzialmente di successo perché Schiaparelli purtroppo è sceso bene ma non si è fermato alla velocità giusta e quindi si è distrutto nell'impatto 2018 Insight stiamo parlando della settimana scorsa praticamente dedicato alla geofisica di Marte e in particolare dedicato alla sismica alla geotermia e allo stato dell'interno di Marte uno dei grandi punti e aperti della conoscenza attuale di Marte dopo tanti anni e tante missioni è se Marte ha o no un core caldo all'interno e quanto questo core sia importante in dimensioni e se ci sta un strato diciamo un interno che abbia ancora una fase magmatica o meno questo è estremamente importante anche per poi quando significa il discorso dell'acqua avere un gradiente geotermico elevato può implicare che non abbiamo necessità di una grande quantità di sali per mantenere l'acqua liquida avere un vulcanismo residuo che non abbiamo però osservato finora dall'orbita può significare ad esempio che ci possono essere delle zone geotermiche e lì per i biologi si aprono dei mondi di bellezza infinita nella geotermia l'acqua su Marte c'è stata beh tanto comincerò vi faccio vedere questo è il delta fluviale di Eberswald quelli sono i meandri di un delta molto più grande di quello del Po anche un po' più grande di quello del Nilo che si che sono sulla superficie di Marte e che hanno lasciato le tracce possiamo vedere fiumi che hanno questo andamento molto molto come dire articolato con un andamento probabilmente torrentizio da qualche parte sono vecchi ci sono un po' di crateri tra l'altro anche qualche crateri grande i crateri sono un indice dell'anzianità delle superfici una superficie con po' crateri o nulla è una superficie giovane geologicamente una superficie molto craterizzata è una superficie antica la luna estremamente antica non ha avuto nessun fenomeno di ringiovanimento superficiale Marte ce l'ha avuti perché è evidente da qua ma se ancora non v'ho convinto penso che questo sia al di là di ogni ragionevole dubbio un belletto di un fiume che scorre si vedono anche i canali di scorrimento non ci sono crateri all'interno quindi è una regione molto giovane l'acqua scorreva relativamente poco tempo fa c'è anche un affluente di lato e questa secondo me è una delle immagini più significative per dire insieme a migliaia di altre che ormai abbiamo che effettivamente l'acqua c'era che l'acqua scorreva e che era presente in quantità ora da queste osservazioni storiche abbiamo a un certo punto cominciato a discutere seriamente come andare a vedere l'acqua che non fosse in superficie e quindi nel dicembre del 96 in occasione del lancio del Pathfinder eravamo riuniti al Coco Beach ovvero Cape Kennedy il paesino che sta subito fuori Cape Kennedy per l'International Mars Exploration Working Group che è quell'acronimo IMIUG bruttissimo che ve l'è e l'ESA nella persona del Marcello Corradini che poi è anche un altro dei nostri coautori successivamente annunciò che aveva un po' di soldi per poter fare una missione low cost per Marte ovviamente ASI che faceva parte è uno dei soci fondatori di IMIUG ed ero presente lì all'epoca appoggiamo immediatamente questa idea perché nasceva sulle scendere in effetti di una missione russa a Marce 96 che era fallita cadendo nell'oceano non si era acceso il secondo stadio che era andato fino all'oceano avevamo due strumenti a bordo e soprattutto avevamo l'idea di un altro strumento innovativo mai volato prima su una missione marziana e di cui c'è un piccolo esempio su una missione lunare di cui poi Roberto vi parlerà più in dettaglio che però ritenevamo assolutamente fondamentale per cercare di capire se mai ci fosse stata acqua sotto la superficie di Marte e anche per capire qual era per esempio lo spessore delle cavote polari e quindi proponemmo in quel contesto di includere nel payload della missione Mars Express così poi si chiama la missione questo strumento si chiama Marsis Mars Express l'abbiamo lanciato a giugno del 2003 Marsis ha iniziato a lavorare un anno dopo l'arrivo di Mars Express in orbita marziana per problemi legati alla sicurezza dell'apertura dell'antenna e poi siamo andati avanti l'idea di Marsis fu del professor Giovanni Picardi dell'Università di Roma grande guru italiano e direi mondiale anche per come è riconosciuto un po' dappertutto dei radar e quindi sta dietro ovviamente a tutte le realizzazioni radar non solo italiane ma anche europee ed alcune anche americane è realizzato sotto la gestione diretta dell'ASI da parte dell'allora legna adesso Thales legna space e con un importante contributo dai nostri amici americani che ci hanno dato quelle lunghe antenne che vedete prima tanto per darvi una dimensione sono ogni braccio è 20 metri di lunghezza quindi in totale sono 40 metri pesano solo un chilo quindi potete immaginare la complicazione nel realizzarle e la quasi impossibilità di poterle provare a terra a causa della gravità terrestre quindi Piccardi è stato ovviamente il primo principal investigator di Marsis e alla sua scomparsa Roberto che era il suo deputy è diventato il capo dello strumento vabbè è uno strumento nuovo non è mai volato prima abbiamo avuto un sacco di complicazioni nel riuscire a capire i dati però alla fine siamo riusciti e nel frattempo l'abbiamo realizzato anche un altro a frequenze leggermente più elevate Marsis tra gli 1 e i 5 megahertz quindi frequenze per un radar molto basse è per quello che penetra e Sharad invece ha 20 megahertz quindi quattro volte più alta frequenza rispetto a Marsis sta su una missione americana è uno strumento intervento italiano abbiamo fatto tutto quanto in Italia lanciato agosto 2005 e tanto per farvi vedere sperando che parte qual è il principio di funzionamento di questi radar quelle sono le antenne le antenne trasmettono un segnale il segnale è abbastanza a bassa frequenza ma come tutti i segnali radar è essenzialmente un sonar nelle onde radio ovvero manda un segnale il segnale viene riflesso indietro a seconda della velocità di riflessione a seconda dell'intensità si può determinare da dove viene e di quanto si è attenuato il segnale e di conseguenza derivare qual è la costante di elettrico ovvero la natura dell'oggetto che si sta analizzando questo è quello che Sharrad ha fatto sul polo nord di Marte quello che vedete ovviamente è un'immagine un disegno del polo nord ma con sovrapposte quelle linee nere che vedete sono gli echi del radar quindi riusciamo a vedere qual è la stratigrafia del polo nord questa è l'immagine radar diciamo elaborata e quindi è come in effetti il radar quella che l'immagine non ripetiamo un'altra informazione importante che abbiamo avuto da Marte è che il ghiaccio di Marte è salato sono sali per clorato e quant'altro e questo l'abbiamo avuto grazie a questa missione Phoenix che è atterrata in una zona piuttosto a nord zona periglaciale marziana e scavando a pochi centimetri sotto la superficie grattando via quei pochi centimetri ha scoperto quelle tracce bianche che vedete di ghiaccio e che cambiano tra il Sol 20 il giorno marziano si chiama Sol per non confondere il giorno terrestre solo perché 40 minuti circa è la differenza che ci stanno in 4 giorni si è molto ridotta la quantità di ghiaccio perché è sublimato non evaporato il Trace Gas Orbiter che è quello di ExoMars sta in questo momento non da molto ha cominciato da qualche mese a operare dopo un lungo periodo di aerobraking di frenaggio nell'atmosfera per non consumare combustibile motivizzando l'atmosfera per frenare lentamente ha lasciato schiaparelli e va bene e queste sono le immagini che ci ha dato per esempio questa è una bellissima immagine ad altissima definizione colori e soprattutto è fatta in 3D quindi si può vedere anche in 3D di sedimenti stratificati copre un'area di circa 25 km per 7 nello Juventus e Chasma e questi sono sedimenti stratificati in una zona in cui probabilmente la stratificazione è avvenuta a seguito di deposizioni in un ambiente liquido è molto bello come immagine anche molto significativa il passo enorme che abbiamo avuto in effetti però su Marte è quello di muoversi sulla superficie quindi di poter operare come un buon geologo potrebbe fare muovendosi e osservando qui vedete il ritratto di famiglia dei 3 rover gli unici che finora si sono mossi su Marte del JPL americani questo è il terreno uno dei tanti terreni simulati che stanno nel JPL quello piccolo in basso è il Pathfinder poco più di una macchinetta radiocomandata quello dietro ai due ricercatori in camice è uno dei Mars Exploration Rover di Mer sia Pathfinder che Mer vedete hanno pannelli solari e quindi devono accumulare energia di giorno per poter operare devono storare immagazzinare energia nelle batterie per sopravvivere alla notte marziana e risvegliarsi successivamente l'hanno fatto in maniera eccezionale per oltre dieci anni poi uno dei due ha deciso di spegnersi poverino doveva campare sei mesi se non ricordo male ha campato dieci anni ma vale più che è bene questo che vedete invece è grande che è grande come un'automobile è Curiosity che invece si muove con generatori di tipo nucleare che danno più o meno la stessa potenza di quei pannelli solari però lo danno in maniera continua notte e giorno e questo è sostanzialmente diverso per poter poi pensare di muoversi e esplorare e quindi anche quello che potrà servire eventualmente per futuri le immagini che ci dà Curiosity sono immagini di questa qualità questa si chiama Harrison Hill è circa 8 metri di altezza si trova su un materiale di affioramento rossastro quelle rocce che vedete sotto alle pendici del Mount Sharp che è il picco centrale del vulcano Gale in cui si trova che è invece decisamente più alto qualche chilometro oppure immagini come questa qui invece parliamo di un buco di un centimetro e mezzo di diametro di due centimetri di profondità perché è quello che può fare il trapano di Curiosity in una zona in cui vedete ci stanno delle rocce ma ci stanno delle intrusioni chiare di nuovo anche in questo caso questo tipo di sedimentazione dal punto di vista geologico implica che in qualche maniera ci sia stata anche della presenza di acqua l'altra cosa che notiamo è come c'è una netta differenza di colorazione tra sopra e sotto a volte sotto è molto più rosso che sopra altre volte come abbiamo visto in altri casi l'interno è completamente grigio rispetto alla superficie e questo che è più rossastra e questo è uno dei tanti ovvi esempi che ci dicono che non bastano le misure fatte da spettroscopia immagine da orbiter per riuscire a capire qual è la vera natura e la storia di questo pianeta tanto più se andiamo a vedere le immagini ancora avvicinate qui siamo sempre oggetti di qualche centimetro c'è quella laminazione incrociata festoni come sono detti in termini geologici che implica che ci sarà uno scorrimento di acqua in maniera turbolenta e quindi c'era un andamento torrentizio oppure queste sferule che sono invece anche sulla terra si trovano quando ci sono rocce percolanti in ambienti di rocce più o meno porose e che a differenza di quello che diciamo l'altra possibile origine potrebbe essere come le sferule vetrose della luna che sono di origine da impatto da crateri ma quello andrebbe bene per alcune di quelle sferule il piccolo problema è che c'è un insieme di tre sferule lì sotto che sono attaccate e quello è impossibile da verificarsi come diciamo materiale fuso dopo un impatto le tectidi che sono questi materiali non hanno mai quel tipo di formazione molto sappiamo anche ovviamente dal paragone continuo che possiamo fare con terreni desertici della terra e terreni marziani lì vedete il Marocco e a destra vedete Marte questa è la zona del Marocco dove abbiamo l'analogo terrestre che è gestito dall'Italia che si chiama Ibn Battuta e dove si fanno dei test qui abbiamo per esempio l'elicottero vedete i loghi dell'ESA e dell'ASI e in basso anche sotto l'ESA quello di Ibn Battuta stavamo facendo i test per il radar di discesa di ExoMars e in quest'altra immagine vedete sulla punta dell'elicottero il radar nella versione ovviamente da terra con tutti gli accessori che servono per poter fare le verifiche tipo ingegneristico sull'elicottero e questo è quello che si vede dall'elicottero in certe zone e quindi a differenza con Marte a parte alcuni arbusti sulla sinistra il resto è decisamente marziano uno dei punti principali quando si vuole atterrare su un pianeta come Marte è che bisogna atterrare spare banale il problema è che Marte a differenza della Luna ha un'atmosfera è vero che è un'atmosfera tenue ma ce l'ha ed è anche un'atmosfera abbastanza in movimento quindi l'atterraggio non può essere del tutto predeterminato conoscendo solo la gravità ma deve essere guidato o autoguidato nell'ultima parte della discesa quindi se vuole utilizzare paragatute e ancora prima scudi termici come non si può fare invece sulla Luna ma una volta che si rallenta a velocità paragatute bisogna compensare i venti il che rende il tutto molto difficile l'altra difficoltà è che per adesso dal punto di vista ingegneristico sappiamo atterrare solo in zone piatte e con sassi non più alti di 50 cm quindi bisogna predeterminare una zona che sia sufficientemente sicura da poter toccare con le zampe o con le ruote e poi muoversi e che sia diciamo ben conosciuta dal punto di vista delle immagini ottiche attraverso anche le gambe di altissima risoluzione come quelle che stanno sul Mars Reconnaissance Orbiter che hanno una risoluzione massima intorno ai 30 cm quindi riescono a vedere anche i sassi più piccoli dei 50 che sono più limite critico queste sono le zone in cui finora si è atterrato Phoenix sta molto a nord è quella che in assoluto sta più a nord Viking 2 anche esso stava abbastanza a nord Viking 1 più a sud Pathfinder Opportunity Curiosity Spirit è abbastanza giù e Insight ora le prossime missioni e in particolare 2020 quella europea atterrerà più o meno nell'area tra Viking 1 e Pathfinder mentre quella americana atterrerà più o meno vicino a Curiosity e Insight perché hanno un altro scopo di cui probabilmente parliamo dopo quando parliamo dei prossimi passi infatti questa è la zona in cui si sta parlando ora per la missione di Exo Mars 2020 Oxian Planum on North Valleys Oxian Planum al momento è quella in pole position insomma il volto di Marte di oggi qual è quello che conosciamo oggi è essenzialmente la superficie appare priva di forme di vita e ad oggi non abbiamo nessuna evidenza della presenza di una forma di vita sulla superficie è segnato da una marcatissima differenza tra la regione nord e la regione sud è una dicotomia completa del pianeta la parte nord è più bassa è molto meno craterizzata in apparenza la parte sud è mediamente highlands quindi terreni più elevati e molto più craterizzati la morfologia che vediamo oggi è sicuramente il risultato in azione combinata di tanti fattori endogene ed esogene abbiamo una zona che è quella dei vulcani quindi tipico fattore endogeno ovvero per esempio la zona di quelli che sono anche i vulcani più alti di tutto il sistema solare e poi è anche l'azione però di fattori di tipo esogeno ovvero dell'erosione dell'acqua che scorreva dell'erosione di tipo eolico di una parte anche di tettonica che però è terminata abbastanza presto su Marte l'attività vulcanica come vi si è nel passato è stata estremamente intensa tant'è che abbiamo Olympus Mons che è 27 chilometri di altezza e 500 chilometri di diametro alla base è un enorme vulcano che però si è diciamo chiusa in maniera relativamente rapida rispetto alla storia del pianeta c'è una paleotettonica sono movimenti gravitativi frane tra l'altro abbiamo visto qualcuno in atto nell'immagine in basso che vedete c'è una frana che è stata ripresa dal Mars Regoni Sans Orbiter mentre avveniva se andate su internet vedete anche il filmatino della frana che si muove poi ovviamente i criteri con le serie meteoritiche ma quello è dappertutto e poi l'attività eolica che continua quindi apparentemente è un pianeta diciamo poco vivo o perlomeno vivo soltanto un po' dal punto di vista giorgio però quello che sappiamo è che nel passato c'era moltissima acqua liquida in superficie ce n'è ancora sotto la superficie e questo lo sappiamo da poco e poi lo vedremo perché e ce n'è molta acqua come ghiaccio sia nella zona polare nord che nella zona polare sud abbiamo grandi quantità di ghiaccio non solo nelle calotte ma anche subito sotto la superficie protette da strati di detriti neanche troppo spessi tra l'altro una delle cose più interessanti per possibili future colonie si possono essere rifiutate forme di vita in questo contesto sì molto probabilmente perché ci sono stati momenti in cui l'acqua è stata stabile per un bel po' di tempo e in alcune nicchie nascoste l'acqua è ancora stabile poi l'atmosfera non è respiabile è vero però se ho l'acqua e ho un po' genossigeno e con l'ossigeno poi mi produco un po' di atmosfera e non me la devo portare tutta da terra la gravità è un terzo non è gran che ma è sufficiente a mantenere per esempio la circolazione dei liquidi corporei del sangue decente ovvero con andamento alto verso il basso che è fondamentale per l'uomo così come problemi di osteoporosi sono ridotti al minimo cosa che invece sono come abbiamo imparato problemi molto pesanti nelle stazioni spaziali ovvero in microgravità e la radiazione solare è un problema perché non è schermato da un campo magnetico globale ha vari effetti questo anche il fatto che il vento solare ha portato via buona parte degli elementi leggeri dell'atmosfera H2O un fotone OV rompe la molecola di H2O in O e H2 gli idrogeni sono molto leggeri e vengono facilmente portati via lo resta a una massa decisamente maggiore e si lega rapidamente alle rocce infatti l'ossidazione della superficie è previamente ubicua su un marco però se noi prendiamo sciogliamo il ghiaccio e ci abbiamo l'acqua dei pannelli solari insomma Marte è forse il corpo del sistema solare dove a parte la nostra amatissima terra che dovremmo trattare forse un po' meglio è più facile realizzare una colonia umana e con questo vi ringrazio Allora vi ringraziamo quindi anche il professor Famiglia adesso la parola finalmente al nostro ultimo relatore Roberto Orosai che ci spiegherà finalmente nei dettagli questa grande scoperta e poi penso ci dire anche qualcosa sul possibile futuro dopodiché intanto cominciate se avete qualche domanda cominciate a pensarci così non facciamo il solito momento di imbarazzato silenzio alla fine avremo un po' di spazio se penso che qualche domanda ci sarà cominciate a prepararvele prego Roberto grazie grazie della presentazione grazie a voi per essere qui oggi e un secondo solo per far partire la presentazione dunque Enrico nella sua presentazione ha fatto vedere qual è lo stato di Marte oggi e quanto si pensi che in passato dovesse essere molto diverso e in particolare ha parlato di come l'acqua dovesse essere presente in superficie allo stato liquido mentre oggi la temperatura e la pressione non lo permetterebbero e in particolare questo fa sì che qualunque forma di qualunque acqua qualunque diciamo molecola di H2O sia presente in superficie questa tenda a formare ghiaccio e non acqua tuttavia data l'importanza che l'acqua ha avuto nello scolpire la superficie di Marte e sostanzialmente nel determinare anche la traiettoria evolutiva la ricerca dell'acqua è diventata il tema dominante nell'esplorazione marziana negli anni 90 cioè quella che è ripresa dopo chiamiamola così la delusione dei viking che mandati su Marte negli anni a fine degli anni 70 per cercare la vita purtroppo non trovarono nessuna prova concreta che questa esistesse quindi dopo la fine di una prima epoca di entusiasmo nell'esplorazione di Marte che però non ha portato i risultati sperati lentamente digerendo l'enorme mole di dati che le missioni viking hanno comunque prodotto e accumulato è nata comunque la concezione del Marte che Enrico ha presentato prima cioè di un Marte che nel passato aveva un clima mite e acqua liquida in superficie mentre oggi è diventato un deserto ghiacciato e quindi capire che cosa ha fatto l'acqua che fine ha fatto l'acqua come si è evoluta la sua presenza il suo ruolo nella storia geologica di Marte è diventato il tema più importante dell'esplorazione di Marte quando si è capito che comunque Marte aveva un passato diverso dal presente quindi che Marte nel passato poteva ospitare la vita per prima di cercare la vita la cosa che si è voluto fare è cercare l'acqua questa è stata la strategia che la NASA ha chiamato follow the water e su cui si sono basate le missioni che sono seguite diciamo ai viking quando si è ripreso a esplorare negli anni 90 e appunto questo tema dell'acqua come viene mostrato in questo diagramma è in qualche modo ciò che unisce assieme sia la ricerca della vita certamente sia la storia del clima e quindi il Marte antico temperato il Marte moderno gelato e arido la sua storia geologica e ovviamente una risorsa per l'esplorazione umana Mars Express come ha spiegato Enrico è stata la prima missione che è stata mandata dall'Europa a Marte ha funzionato al primo tentativo aveva a bordo un lander anche Mars Express di cui non si parla molto era inglese e anche quello si è schiantato non è facile atterrare su Marte e a bordo appunto ci sono due strumenti italiani in effetti nelle missioni europee gli strumenti sono forniti dalle singole agenzie spaziali nazionali mentre la sonda che li contiene li trasporta a Marte li fa funzionare è fornita dall'agenzia spaziale europea quindi in qualche modo una missione come Mars Express è una specie di condominio in cui appunto i vari inquilini sono gli strumenti provenienti da vari paesi e in particolare ce ne sono sette su Mars Express di cui due francesi due tedeschi due italiani e uno scandinavo che sembra un po' l'inizio di una barzelletta ma comunque insomma è così che funzionano le cose quando si è in Europa c'è sempre la necessità di dare a ciascuno la propria fettina comunque i due strumenti italiani mi spendo brevemente per accennare al fatto che oltre a Marsis c'è un altro strumento che si chiama PFS che è uno spettrometro e che ha co-scoperto secondo diciamo la lettura che ne viene data assieme a osservazioni fatte da terra alla fine del 2004 inizio 2005 la presenza di metano nell'atmosfera questo può sembrare diciamo una cosa abbastanza minore se si pensa che ce ne sono circa una quantità una concentrazione di 20 10-20 parti per miliardo di molecole dell'atmosfera tuttavia il metano ha una caratteristica particolare cioè quella di non sopravvivere a lungo in presenza di radiazione ultravioletta quindi viene distrutto rapidamente rapidamente significa 100 mille anni questo non è chiaro però dipende anche dalle condizioni ma è quindi per essere presente oggi pure in quantità minima deve essere deve esistere un processo che lo produce ora il problema è che è quella natura di questo processo cioè sulla terra il metano presente nell'atmosfera è prodotto essenzialmente da due classi di fenomeni l'attività geologica vulcanica che su Marte non c'è e la vita quindi il metano su Marte presente nell'atmosfera scoperto sempre da uno strumento italiano forse scoperto con osservazioni da terra ma lasciamo perdere potrebbe essere e forse un giorno lo sapremo se è così o no la prima evidenza sperimentale diretta della presenza di vita su Marte stranamente non lo sa nessuno questo è uno dei grandi misteri italiani come per esempio nessuno sa che l'Italia è la terza nazione ad avere messo in orbita un satellite artificiale dopo Russia e Stati Uniti noi chissà perché ci spalmiamo ci adagiamo sull'immagine generalmente negativa che i nostri diciamo paesi confinanti hanno di noi del paese diciamo che è più impegnato a far roteare le pizza in aria in realtà noi siamo un paese tecnologicamente avanzato e forse dovremo anche spendere un pochino di energia nel cercare di rimanerlo e anche perché questo ha una serie di conseguenze sulla nostra capacità di crescita economica fine della parentesi detto questo appunto parliamo di Marsis che invece è un radar questo è un radar a bassa frequenza e il motivo per cui lo si usa è che le onde radio a frequenze dei megahertz delle decine anche delle centinaia di megahertz riescono a penetrare nella materia solida tutti noi siamo abituati al fatto che un telefonino funziona anche dentro casa questo però diciamo si basa proprio sul fatto che le onde radio del telefonino attraversano i muri altrimenti non funzionerebbe e la stessa cosa fanno le onde radio di Marsis che peraltro sono a frequenze infinitamente più basse perché mentre un telefonino opera circa 900 megahertz Marsis opera tra i 2 e i 5 megahertz ora come funziona sostanzialmente quello che conta quello che ci dice quanto l'onda radio può penetrare nel terreno è la natura del materiale che viene sondato e in natura i diversi materiali parliamo in generale di materiali naturali quindi rocce ghiacci eccetera hanno grandi variazioni sono molto differenti l'uno dall'altro in termini di proprietà diciamo di attraversabilità chiamiamola trasparenza alle onde radio e anche in termini di indice di rifrazione che però ha anche l'effetto di verificare quanta frazione dell'energia di un'onda radio incidente riesce a penetrare all'interno e quanto invece rimbalza ora sulla terra abbiamo che o meglio tra i materiali naturali abbiamo che quello con l'indice di rifrazione più bassa e anche con la maggiore trasparenza è il ghiaccio il ghiaccio d'acqua quindi è un materiale ideale per farci passare in mezzo le onde radio mentre l'indice di rifrazione più alto ce l'ha l'acqua liquida e quindi è il materiale che meglio riflette le onde radio incidenti quindi un radar che trasmette onde radio attraverso il ghiaccio per scoprire l'acqua è quello che ha maggiori probabilità di scoprirla cioè è il caso più favorevole in cui un radar può ottenere degli echi da sotto la superficie e quindi può anche ottenerli per spessori di ghiaccio molto grandi addirittura di chilometri è come è stato il caso per Marsis quindi quello che succede adesso cerco di mostrare una piccola animazione quando il radar trasmette quindi un'onda radio un impulso radio verso il basso l'animazione l'avete vista un primo eco proviene dalla superficie una parte dell'energia dell'impulso viene riflessa subito dalla superficie verso il radar verso l'antenna che riceve e lo registra mentre se mentre parte dell'energia penetra e continua a penetrare e a sua volta viene riflessa di nuovo quando il materiale cambia proprietà cambia indice di rifrazione quindi per esempio parlando delle calotte polari visto che stiamo parlando di come si fa a sondare attraverso chilometri di ghiaccio quando la calotta polare finisce e sotto cede la roccia la roccia però ha un indice di rifrazione non tanto diverso da quella del ghiaccio si parla da 1,7 a 3 insomma e quindi il rimbalzo no è acceso allora che succede? niente cerco solo di parlare dentro cerco di stare più vicino perché la registrazione si fa dall'interno quindi anche se ti si sente se non parli lì va bene va bene quando però comincia a comparire l'acqua le proprietà del materiale sono diverse in particolare l'acqua riflette molto di più le onde elettromagnetiche e questo significa che quando Marsis osserva dell'acqua ottiene degli echi molto più forti questo avviene anche sulla Terra nel senso che non è che Marsis sia qualcosa che nasce completamente dal diciamo che è un esperimento che viene fatto per la prima volta su Marte sulla Terra questo sistema viene già utilizzato da tempo e di fatto voi probabilmente sapete che sotto il ghiaccio dell'Antartide ma anche in Groenlandia e adesso più recentemente si è scoperto anche nell'Artico canadese ci sono dei laghi che però sono sepolti sotto il ghiaccio cioè si trovano alla base della calotta polare alla base del ghiaccio sostanzialmente l'acqua rimane liquida perché il ghiaccio sovrastante fa da isolante termico che impedisce al freddo esterno di congelare l'acqua e questi laghi sono stati scoperti anche e adesso oramai continuamente vengono scoperti sempre più con questo genere di radar cioè anche sulla Terra ci sono aeroplani che solvorano i ghiacciai se trasmettono onde radio e quando tengono degli echi particolarmente forti così forti da essere più forti addirittura di quelli della superficie di solito sulla Terra si conclude che lì sotto c'è dell'acqua e così è stato scoperto un altro lago quindi il trucchetto era fare la stessa cosa su Marte naturalmente non è così semplice ecco questi sono i laghi oramai su Marte se ne sono scusate sotto l'Antartide sono stati identificati quasi 400 il più famoso è il lago Vostok che si trova ben a più di 3 km di profondità e quindi si tratta di oggetti che noi non possiamo vedere in altro modo non possiamo nemmeno raggiungere perché non è facile scavare attraverso 2 km o 3 di ghiaccio e quindi questa tecnica è l'unica che ci permette di identificarli al volo le cose però come dicevo su Marte sono un tantino più complicate e questo per esempio è il primo tentativo di scoprire acqua su Marte che però ha fatto Cilecca e sono come dire in questo caso si tratta di un articolo scritto dai nostri colleghi americani che già nel 2007 avevano trovato che sotto il punto più spesso della calotta polare meridionale uno spessore di 3 km e 7 quasi 4 c'erano degli echi forti così forti da essere più forti degli echi di superficie quello che state vedendo in effetti ve lo spiego brevemente perché potrebbe non esservi molto familiare viene il cosiddetto radargramma cioè una sezione radar verticale del terreno questa è immaginate sostanzialmente come un'ecografia cioè un taglio verticale attraverso il terreno che ci fa vedere le strutture che riflettono onde radio ed è costruito mettendo assieme tanti echi uno dopo l'altro acquisiti lungo la traiettoria quella sotto ovviamente è una mappa a falsi colori della topografia marziana rilievo ombreggiato in cui i colori servono a indicare la quota ma diciamo non è questo il punto importante la cosa importante è la freccetta la freccetta indica appunto una zona sotto il ghiaccio vedete nella parte quasi più spessa della calotta polare che è particolarmente brillante lo è nell'immagine e lo è appunto per il radar in cui gli echi sono molto più forti che nella superficie quindi bingo abbiamo trovato l'acqua è tutto così come sulla terra e possiamo già cantare vittoria dieci a undici anni fa purtroppo la risposta è stata no perché perché sul Marte la temperatura è così bassa che non solo ghiaccia l'acqua ma ghiaccia anche l'anidride carbonica e l'anidride carbonica ha purtroppo la spiacevole proprietà di essere ancora più trasparente del ghiaccio d'acqua in particolari configurazioni e questo significa che in realtà quando uno identifica gli echi e vedi che sono più forti di quelli di superficie deve anche tenere conto del fatto che questo potrebbe accadere non perché sotto c'è un oggetto o un materiale che riflette molta energia come l'acqua appunto perché ha un indice di rifrazione alto ma piuttosto che il materiale sovrastante è molto trasparente e riflette poco per cui gli echi che vengono dalla superficie sono debolissimi gli echi che vengono da sotto sono forti non perché ci sia una grossa riflettività sotto ma perché non c'è attenuazione all'interno e quindi c'è una forte l'eco rimane forte praticamente e questo è stato il caso purtroppo si è capito che in questo particolare caso c'era del ghiaccio di anidride carbonica sopra al fondo diciamo nella calotta polare e quindi non è stato possibile diciamo si è dimostrato in sostanza che questa non è la spiegazione più più plausibile per questi echi così forti era dovuta alla trasparenza del ghiaccio di CO2 piuttosto che alla presenza di un materiale fortemente riflettente le cose si complicano ulteriormente perché naturalmente nessuno ha rinunciato all'idea di cercare l'acqua e quindi si è cercato altre zone in giro per Marte dove ci fossero questi echi forti ma non è stato facile trovarle in realtà al di là di quella zona di cui vi ho parlato appena adesso questa sotto la parte più spessa della calotta polare sud le zone dove compaiono occasionalmente echi da sotto un chilometro e mezzo due tre di ghiaccio sono rarissime e soprattutto sono piccole ma la cosa che ci ha fatto veramente diventare matti perché noi abbiamo cominciato a lavorare a questa faccenda nel 2008 dopo diciamo che i nostri colleghi americani avevano trovato la loro di zone interessanti e quindi ci abbiamo messo dieci anni praticamente la cosa che ci ha fatto veramente a mattire era il fatto che quando osservavamo la stessa zona in un'orbita successiva quindi ci passavamo sopra dopo un po' a volte non vedevamo la stessa cosa cioè quegli echi forti che vedevamo erano scomparsi allora questo ha quindi reso molto molto più difficile dire abbiamo trovato l'acqua perché siamo sicuri che intanto la vediamo cioè non la vedevamo nemmeno e questo ci ha costretto veramente a ripartire da zero e in sostanza ci ha permesso poi alla fine la soluzione l'abbiamo trovata grazie a un piccolo colpo di fortuna cosa è successo intanto è successo che una delle realtà più spiacevoli dell'esplorazione spaziale è che tutte le sonde spaziali sono dei vecchi rottami nel senso che per fare una missione spaziale occorrono circa dieci anni di sviluppo con Mars Express ce la siamo cavata con cinque poi ci vuole il tempo per arrivare là e cominciare a far funzionare la missione eccetera in sostanza però quando una missione spaziale viene decisa viene decisa anche la tecnologia con cui verrà realizzata perciò Mars Express nel 2018 in realtà si basa su tecnologie degli anni 90 e questo è un po' spiacevole per qualcosa che rappresenta l'avanguardia tecnologica dell'umanità la cosa che è questa ha anche delle conseguenze pratiche in particolare per Marsis perché Marsis ha la capacità di produrre un sacco di dati cioè trasmette e riceve a grande velocità e questo è necessario per avere una quantità sufficiente di dati da analizzare ma non può trasmetterli alla sonda perché essendo tecnologia degli anni 90 il massimo rate la massima banda di trasmissione di dati che può trasmettere lo strumento alla sonda al computer della sonda è di meno di 100 kilobyte al secondo cioè un modem ripeto degli anni 90 allora per evitare questo spiacevole inconveniente lo strumento è stato dotato di una sua intelligenza cioè della capacità di elaborare i dati per conto proprio e mandare a terra solo il risultato elaborare in questo caso significa prendere tanti echi acquisiti uno dopo l'altro più di 100 quasi anche fino a 200 e sommarli tutti assieme e poi mandare a terra solo il risultato quello che ci ha reso così difficile in tutti questi anni capire cosa stavamo vedendo era proprio questa elaborazione a bordo cioè il fatto che prendendo questi echi tanti echi alcuni dei quali erano echi forti altri erano deboli e poi sommandoli tutti assieme mandando a terra sostanzialmente la media questa informazione degli echi forti a volte si perdeva quindi noi a volte eravamo fortunati la somma riusciva a conservare parte dell'informazione vedevamo gli echi forti a volte non eravamo così fortunati e quindi ripassando sulla stessa zona che intrinsecamente aveva sempre le stesse proprietà non era cambiata l'elaborazione a bordo però cancellava l'informazione semplicemente perché magari sommavamo diciamo il pezzo di traiettoria entro cui acquisivamo i dati da sommare era un po' era metà sulla zona riflettente quella con l'acqua come si capirà poi e metà no e quindi facendo la media si perdeva l'informazione quindi cosa è che ci ha permesso di saltarci fuori dato che i dati stessi venivano in qualche modo danneggiati dalle elaborazioni a bordo il fatto che appunto durante lo sviluppo dello strumento in un anno non ben precisato ma prima del 2003 qualcuno ha pensato bene che sulla scheda del computer diciamo della CPU dello strumento c'erano ancora degli slot liberi e in questi slot si potevano inserire delle memorie e qui entriamo nella leggenda nel senso che la storia che mi è stata raccontata è talmente assurda che potrebbe anche essere vera ossia le memorie da mettere su uno strumento spaziale ovviamente devono avere le caratteristiche adatte per poter andare nello spazio e quindi devono essere resistenti alle radiazioni in genere si tratta di materiale militare declassificato questo è il tipo di cose con cui si lavora comunque certamente non è il genere di cose con cui uno che uno va a comprare un negozio di elettronica allora trovare queste memorie quando non era stato previsto di acquistarle già è stato un colpo di fortuna apparentemente la leggenda dice che due ingegneri italiani di cui uno che lavorava a Milano e uno che lavorava a Roma si trovavano in uno dei laboratori della NASA quando questa discussione è cominciata sul fatto di inserire queste schede di memoria e questi due ingegneri si sono resi conto che però di schede non ne avevano però essendo diciamo trovandosi a lavorare con dei colleghi americani a un progetto comune in quel progetto erano avanzate alcune schede di memoria che i colleghi americani gli hanno regalato senza così gratis e questo già anche questo se pensiamo all'America di oggi diciamo a quello che è diventato l'America dopo l'11 settembre 2001 ecco se questo fosse accaduto dopo il 2001 non sarebbe cioè ciò non sarebbe mai stato possibile però non solo queste schede queste memorie che ciascuna delle quali era capace di contenere ben 4 megabyte di dati quindi un totale di 16 megabyte di dati stavano nella tasca dell'ingegnere diretto a Roma quando l'aereo che ha riportato entrambi gli ingegneri in Italia ha fatto scalo a Milano al che l'ingegnere milanese che era quello che avrebbe dovuto montarle sulla scheda ha attraversato diciamo la porta per andarsene così e si è ricordato delle schede e ha chiesto al suo collega romano di dargliele il quale senza pensarci le ha tirate fuori dalla tasca ce le aveva in tasca le ha lanciate per aria e l'altro ingegnere per fortuna è riuscito a prenderla al volo quindi in quel momento c'è stato l'effetto farfalla cioè due realtà si sono divise da una parte quella in cui l'acqua viene scoperta dall'altra quella in cui noi continuiamo a sbattere la testa contro il muro fino a vita natural durante e io non ho mai creduto all'effetto farfalla a me faceva ridere l'idea che una farfalla che batte le ali da qualche parte in Polinesia fa venire un uragano in Texas però questa volta effettivamente ci siamo andati molto vicini comunque detto questo quindi e tra l'altro la decisione ecco una delle persone coinvolte nella decisione Enrico il cui presente però lui non era quello che ha acchiappato la no ma fammi dire una cosa sulla parte iniziale della leggenda perché di quella cosa dello scambio ovviamente abbiamo fatto una teleconferenza prima con NASA era all'interno degli accordi di scambio bilaterale quindi era coperta la possibilità che noi fornissimo a loro parti o loro fornissimo a noi parti a parte degli accordi internazionali e come dire fui informato perché mi chiamarono e ovviamente disse sì facciamolo al volo poi il resto sì sì no poi il resto è la storia così insomma comunque e questo è sostanzialmente quindi con questi 16 megabyte di memoria una roba che ci si vergognerebbe ad avere un telefonino con queste capacità siamo riusciti appunto e anche qui entriamo un'altra volta nella leggenda però più simile all'armata Branca Leone stavolta cioè un altro ingegnere sempre di Milano ma uno diverso e un precario che lavora a Roma si sono messi assieme per trovare il modo appunto di utilizzare queste memorie per memorizzare tutti i dati che ci servivano fino ad allora nessuno se ne era preoccupato c'era un modo di farlo ma non era molto efficiente loro lavorando uno gratis nel tempo libero e l'altro comunque con contratti a tempo determinato si sono messi lì e hanno risolto il problema cioè hanno creato la possibilità per lo strumento di acquisire questi dati senza elaborazione a bordo questo ha cambiato tutto nel senso che i dati elaborati a bordo fanno vedere qualcosa di questo genere i dati questi stessi dati salvati prima di venire elaborati a bordo fanno vedere questo e questa è tutta un'altra storia ovviamente permettono di vedere ho evidenziato in azzurrino la parte dove ci sono gli echi particolarmente forti che sono poi l'acqua ecco questo ci ha permesso di distinguere i dettagli e di individuare chiaramente le zone dove queste riflessioni forti si concentravano e soprattutto di vederle ogni volta che volavamo sopra queste zone ora dunque a questo punto ah no prima ancora una piccola ultima cosa e già così siamo arrivati al 2000 e 2011 credo ecco quindi ci sono voluti tre anni solo per dopodiché però abbiamo cominciato a osservare Marte ma non abbiamo mica potuto fare subito perché perché Mars Express purtroppo ha un'orbita un po' complicata cioè per usare meno carburante e farci stare più strumenti a bordo l'orbita di Mars Express è estremamente allungata quindi si può Marsis che ha bisogno di stare vicino a Marte può osservare solo per una piccola parte dell'orbita acquisire dati poi si allontana e quando è troppo lontano lecchi sono troppo deboli per essere ricevuti e il problema è quest'orbita si sposta di continuo quindi l'appunto più vicino quello in cui Marsis può osservare ruota e continuamente intorno di posizione intorno a Marte quindi purtroppo erano state fatte alcune osservazioni dopo che questo sistema delle flash memory è stato messo in atto ma poi se n'è andato via e abbiamo dovuto aspettare tre anni e mezzo prima di passarci sopra e qui anche lì comunque fatto sta che alla fine del dicembre 2015 finalmente avevamo tutto quindi diciamo più che la fortuna è la pazienza che aiuta gli audaci potrei dire comunque a quel punto c'era un sacco di gente che aveva capito che le cose potevano cambiare davvero e quindi ci siamo aggregati intorno a questo progetto questi dati e dopo abbiamo passato i successivi due anni a sbatterci la testa contro perché comunque anche se avevamo delle osservazioni chiaramente difendibili ripetibili delle cose reali che potevamo mostrare purtroppo dimostrare che però non era dovuto alla presenza di ghiaccio d'acqua ha richiesto parecchio lavoro e questo è di nuovo l'esempio di prima insomma sostanzialmente qua fa vedere questo diagramma è sostanzialmente una misura della potenza dell'eco di superficie che è questa linea rossa che più o meno rimane costante nel tempo e la potenza dell'eco di sottosuperficie che è questa più profonda che vedete che prima è bassa poi sale un po' poi scende e poi qui diventa enormemente più grande essendo la scala in dB qui significa che passiamo da 25 a 35 dB cioè 10 volte più forte l'eco più sotto e 10 volte più intenso di quello che viene da sopra una cosa assolutamente notevole cioè che non si può spiegare altrimenti però comunque ha richiesto parecchio lavoro la cosa interessante quindi come dicevo è che queste osservazioni sono state ripetibili queste sono le strisciate del radar rappresentate a falsi colori in blu ovviamente sono le zone con gli echi forti e questo è il laghetto che noi amiamo chiamare beh ci arriviamo tra poco comunque queste invece marroni e bianche sono quelle dove gli echi sono come ci si aspetta e siamo vicini al polo sud questa non è tutta la calotta polare la calotta polare sud di Marte è molto più grande questa è la parte fatta di ghiaccio di CO2 e quindi che era quella dove era stata la prima riflessione brillante quindi dove sappiamo che assolutamente non possiamo dimostrare la presenza di acqua per l'ambiguità introdotta dalla presenza di CO2 mentre noi siamo un po' più lontani in una zona che è coperta di questa tremenda polvere marziana che si infila dappertutto comunque che comunque però fa sotto e ghiaccio ecco questo è l'ingrandimento e diciamo alla fine tutto questo ci ha permesso di dimostrare dopo due anni di lavoro a fare e rifare conti siamo riusciti a dimostrare che lì sotto l'unica spiegazione per quello che vedevamo era la presenza di acqua liquida tra l'altro un'acqua liquida a bassa temperatura nel senso che le proprietà stesse dell'ecchi radar proprio per il fatto di essere così brillanti ci dicono che il ghiaccio sopra deve anche essere freddo non solo trasparente perché il ghiaccio caldo cioè vicino al punto di fusione diventa opaco e quindi noi non avremmo nemmeno visto gli ecchi dell'acqua se l'acqua fosse stata a zero gradi centigradi questo è ironico ma è reale cioè Marsis non può trovare facilmente dell'acqua a temperature molto vicine al zero vede bene l'acqua in cui il ghiaccio a contatto con l'acqua che quindi avrà più o meno la stessa temperatura dell'acqua è a temperature molto sotto lo zero e come è possibile tutto questo? beh questo Enrico l'ha già detto sostanzialmente la soluzione è la presenza di sali su Marte ci sono questi sali perclorati che si formano e sono presenti dappertutto perché apparentemente si formano con reazioni tra gas atmosferici grani di polvere in sospensione dell'atmosfera e radiazione ultravioletta quindi praticamente questo è un processo che avviene continuamente dappertutto su Marte e quindi il sale è presente quasi ovunque su Marte forse è difficile trovare un posto dove non ci sia quindi questo può spiegare ed è la spiegazione che noi ci siamo dati quello che vediamo cioè dell'acqua che è sicuramente a temperature di meno 10 meno 20 forse potrebbe addirittura essere a meno 60 ma non abbiamo modo di saperlo al momento e sotto che sopravvive appunto in forma liquida sotto un chilometro e mezzo di ghiaccio e quindi abbiamo qualcosa che sicuramente non è l'acqua che uno vorrebbe bere dal rubinetto tuttavia è qualcosa che dove i più tenaci e ostinati microorganismi terrestri sono capaci di sopravvivere quindi questo è anche se in un modo estremo un habitat il primo habitat scoperto al di fuori della terra ora come già stato detto prima Marte forse quasi certamente insomma nel suo passato era era simile alla terra certamente c'era acqua liquida in superficie certamente aveva un'atmosfera e certamente pioveva perché altrimenti quel delta di fiume mostrato da Enrico non si sarebbe potuto formare senza dei fiumi che funzionano e si caricano con con la pioggia come è stato accennato anche dalla nostra scrittrice questa fase è durata per alcune centinaia di milioni di anni chiedo scusa non mi ricordo il nome Carla scusa e alcune centinaia di milioni di anni 4 miliardi e mezzo di anni fa cioè Marte probabilmente è rimasto simile alla terra o chiamiamolo abitabile fino a forse 4 miliardi 3 miliardi 800 milioni di anni fa e uno dice beh è un bel po' di tempo fa però sulla terra a 3 milioni 3 miliardi 800 milioni di anni fa la vita c'era già quindi la cosa importante è che su Marte il tempo per la nascita della vita e le condizioni per la nascita della vita ci sono state per conseguenza l'esistenza di acqua liquida oggi potrebbe costituire il rifugio della vita che si è formata su Marte agli inizi della sua storia per questo è così importante perché alla fine di tutto questo la domanda fondamentale che giustifica e che concentra il nostro interesse nell'esplorazione di Marte è proprio questa la vita su Marte è nata oppure no saperlo è un primo passo del tassello che ci porta a capire il senso e la frequenza dell'esistenza di vita nell'universo noi non sappiamo come produrre la vita c'è un grosso buio tra diciamo quello che sappiamo dei primordi della terra e i primi organismi viventi noti io ho sentito una conferenza di un biologo molto importante si chiama Boncinelli il quale in qualche modo ha detto che lui non ha la più palle da idea cioè che non esiste la capacità di sapere quali sono le vere condizioni necessarie all'emergere della vita si sappiamo che ci vuole l'acqua che ci vogliono temperature decenti che ci vuole carbonio idrogeno ossigeno azoto fosforo zolfo come minimo che ci devono essere fonti di energia come la luce del sole o altri fenomeni però nessuno è capace di produrre la vita in un tubetto in una come dire in una provetta di laboratorio qualcuno ha fatto anche il paragone forse adesso sarà anche un po' datato perché risale credo agli anni 60 che supporre che si formi anche il più semplice organismo vivente così in maniera casuale è un po' come aspettarsi che agitando i pezzi di un quadrimotore in uno scatolone di mille chilometri di diametro questo si monti da solo e esca anche con i motori accesi quindi diciamo che c'è una difficoltà concettuale reale nel capire come è nata la vita sulla terra e quindi in qualche modo noi non sappiamo qual è l'ingrediente segreto se ce n'è uno che la fa emergere quindi non sappiamo nemmeno se bastano le condizioni che sulla terra e su Marte sappiamo essere esistite di temperatura pressione eccetera eccetera per far emergere la vita o se deve succedere qualcosa di speciale che ancora non capiamo nel momento in cui noi aggirassimo la nostra ignoranza e trovassimo la risposta su Marte sperabilmente una risposta positiva ecco che improvvisamente tutto cambierebbe cioè la scoperta di vita su Marte ci direbbe che la vita deve essere piuttosto comune nell'universo e incidentalmente oramai la ricerca di pianeti extraterrestri è progredita al punto che pur restando dentro al cortile di casa in termini di dimensioni dell'universo abbiamo esplorato più o meno bene una sfera di circa 2000 anni luce di raggio la nostra galassia è 100.000 anni luce di diametro abbiamo sono già stati scoperti più di 3000 pianeti e di questi circa 15 forse sono abitabili quindi diciamo lo 0,5% se uno estrapola questa statistica al numero di pianeti dell'intera galassia e supponendo che ci sia circa una media di un pianeta per ogni stella perché più o meno è quello che troviamo allora questo già ci porta a supporre a dover considerare che nella nostra galassia ci sono 500 milioni di pianeti abitabili ora se tutti questi sono anche abitati certamente è un posto piuttosto affollato insomma mentre se la vita è qualcosa di improbabile e qualcosa che invece avviene solo una volta ogni tanto questo significa che la vita non ha nessun reale significato nell'evoluzione dell'universo cioè non ha nessuna possibilità di influire certo noi stiamo distruggendo la terra e certamente l'evoluzione biologica ha cambiato la terra tutto l'ossigeno che respiriamo non esisteva all'inizio della storia della terra è stato prodotto dalla fotosintesi quindi l'esistenza stessa della vita anche quella meno idiota della nostra diciamo cambia e modifica in maniera irreversibile il pianeta su cui questa si sviluppa l'immissione di ossigeno nell'atmosfera in effetti ha sterminato circa il 90% degli organismi che non respiravano ossigeno anzi per i quali l'ossigeno era il veleno cioè diciamo il 90% degli organismi esistenti all'epoca in cui ciò accade miliardi di anni fa quindi la vita ci va pesante cambia le cose altera in maniera definitiva i pianeti noi lo stiamo facendo un po' troppo in fretta e un po' troppo male però se la vita è comune nell'universo allora effettivamente quando si pensa alla traiettoria evolutiva dell'intero diverso bisogna includere la vita nell'equazione se invece la vita è rara è solo una piccola scintilla di luce che si spegne senza lasciare nessuna traccia e per correre diciamo per venire alla conclusione diciamo che la cosa carina è che stiamo cercando di fare dare questo lago sotterraneo di dargli un nome peccato che Piero Benvenuti non sia qui oggi perché avrei proprio voluto chiedere a lui come fare nel senso che lui come presidente dell'Unione Astronomica Internazionale dirige l'organismo che dà i nomi alle cose in giro per l'universo e noi volevamo chiamare questo lago Argentarium perché è dove Giovanni Picardi colui che ha realizzato lo strumento e lo ha guidato fino al 2015 aveva la sua casa di vacanza ed era il posto dove di più amava stare intitolarlo direttamente a Giovanni pare che non si possa perché ci sono delle regole appunto dell'Unione Astronomica Internazionale pensavamo un po' di aggirare questa cosa chiamandolo con il nome di un posto che lui ha molto amato al momento stanno un po' nicchiando dicono ma in fondo è sottoterra non lo vediamo ma non lo so il peccato è che appunto se ci fosse stato benvenuto avrei magari cercato di convincerlo ad agire un po' sul comitati perché ci dessero una risposta un po' più diretta comunque la storia non finisce qui noi continuiamo a osservare queste sono due mappe a falsi colori e rilievo ombreggiato mappe topografiche del polo nord e del polo sud c'è qualcosa di strano al centro di ciascuna mappa ma quello è un buco nei dati nel dataset le tracce e le righe bianche sono dove abbiamo finora osservato con questa modalità del radar speciale quella che non elabora i dati a bordo e quindi che è l'unica che ci permette di vedere con certezza la presenza di acqua vedete non abbiamo coperto molto terreno ci manca un sacco ancora da esplorare e quindi vogliamo continuare a esplorare perché? perché la presenza di laghi cioè di un solo lago su tutto Marte probabilmente non significa molto cioè significa che in quel particolare luogo in questo particolare tempo ci sono delle condizioni speciali che però non sono comuni su Marte che probabilmente non sono presenti nella gran parte della sua storia al contrario se noi scoprissimo esplorando in maniera molto più dettagliata le calotte polari che i laghi ce ne sono degli altri che ce ne sono degli altri e che quindi sono relativamente comuni potremmo anche renderci conto e giustificatamente asserire che questi laghi non solo esistono oggi ma probabilmente sono stati comuni anche nel passato e quindi che in qualche modo una eventuale vita che si fosse sviluppata nei primordi della storia di Marte avrebbe avuto la sua arca di Noè in cui sopravvivere fino ad oggi per 3,8 miliardi di anni e da qui ci passiamo al futuro non so se su questo Enrico vuole commentare io avevo qualche diapositiva a riguardo comunque Schiaparelli che alcuni e anche io qualche volta freudianamente chiamo Schiantarelli cioè la sonda che per una malaugurata scelta di risparmiare qualche soldo sui collaudi ma non entriamo in questi dettagli perché poi comunque non ci si è accorti di un problema di bordo che poi ha portato alla sua perdita comunque doveva dimostrare soprattutto la capacità dell'Europa di fare atterrare qualcosa su Marte senza schiantarlo e questo serviva proprio perché tra un paio d'anni parte il prossimo rover il primo rover europeo destinato all'esplorazione di Marte che è ExoMars rover che è quello che vedete nella figuretta vedete che ha i pannelli solari quindi un po' più piccoletto ma ha una cosa molto importante quella trivella che vedete scavare nel sottosuolo mostrato in sezione questa trivella è italiana viene realizzata al Politecnico di Milano si porta diciamo ricca a bordo anche degli altri strumenti cioè nella sua punta è nascosto una piccola telecamera che esplora gli strati e cerca di riconoscere la presenza di molecole organiche e questa trivella servirà per campionare al di sotto della superficie fino a una profondità di due metri a una profondità di due metri le radiazioni che sterilizzano la superficie cioè che rendono impossibile aspettarsi di trovare vita in superficie su Marte non penetrano sostanzialmente quindi questa l'exo-mars rover è il primo tentativo serio di trovare la vita su Marte dai tempi del Viking cioè la prima esplorazione di un ambiente dove più o meno la vita potrebbe o almeno tracce di vita potrebbero sopravvivere non è sul lago come dicevo il lago sta a un chilometro e mezzo di profondità e al polo sud qui invece siamo vicini all'equatore tuttavia se raggiunge il permafrost quindi se raggiunge il terreno ghiacciato in qualche modo c'è comunque speranza che qualche traccia se c'è mai stata vita diffusa su Marte si possa trovare anche lì e questa traccia non sarebbero distrutte dalle radiazioni che invece disgregano le molecole organiche in superficie quindi il primo tentativo di trovare la vita su Marte di nuovo anche se naturalmente difficile però con molte chance in più rispetto al Viking che era disegnato diciamo per progetto per come era stato concepito non poteva funzionare o avrebbe fatto molta fatica a funzionare sono nostre allora cosa facciamo adesso cosa si fa nel futuro vedete qua in inglese vabbè follow the water quello che dicevo all'inizio non si sa dove cercare la vita almeno cerchiamo l'acqua però questo oramai è stato realizzato e quindi esploriamo l'abitabilità ossia cerchiamo ambienti dove la vita può sopravvivere oggi e questo è appunto trovare il lago su Marte perché il lago a quanto ne sappiamo per ora può essere un habitat a questo punto trovati gli habitat cerchiamo la vita e nel contempo prepariamoci all'esplorazione umana queste sono le principali strategie che verranno messe in atto nei prossimi decenni nell'esplorazione di Marte in basso ho messo un paio di figure su quelle che sono le due tappe fondamentali in questo sviluppo uno a sinistra quello che viene chiamato il sample return cioè prendere un pezzo qualche sasso marziano e riportarlo a terra perché è meno costoso prendere rocce marziana e riportarla a terra e farci tutte le analisi che vogliamo con tutti gli strumenti che vogliamo piuttosto che portare tutti quegli strumenti fino a Marte peserebbero troppo quindi da un punto di vista economico ha senso fare così e ovviamente il passo successivo è l'esplorazione umana perché con tutta la buona volontà al momento non abbiamo delle macchine che siano capaci di capire o comunque di integrare l'informazione e lavorarla sul posto e prendere decisioni quanto un essere umano e per concludere visto che il tema era la fantascienza e parlando appunto dell'andare su Marte questo diagramma mostra la traiettoria della sonda della Ares cioè dell'astronave che è stata usata nel film The Martian per andare su Marte allora questa traiettoria è possibile esiste si può fare partendo nel 2035 si può arrivare a Marte in quattro mesi qual è la tecnologia che Ares ha e che al momento non viene non può essere non è disponibile qualcosa che su scala più piccola è già stato realizzato il motore a ioni cioè un motore che invece di sparare gas a casaccio attraverso un ugello come fa il motore a razzo usa un campo elettrico per indirizzare tutti i singoli atomi anzi tutti gli atomi ionizzati di un plasma per andarsene tutte nella stessa direzione così che la spinta venga fatta nella direzione opposta questo motore consuma pochissimo a parità di spinta consuma pochissimo carburante e quindi può essere utilizzato per periodi di tempo prolungati perché consuma poche quindi con una data quantità di carburante può comunque durare a lungo può funzionare a lungo l'altra cosa importante però il problema fondamentale finora è che è difficile per il momento produrre motori a ioni con una grossa potenza con una forte spinta quindi il problema è che le sonde che funzionano con motori a ioni e che ce ne sono già state realizzate alcune una europea ma soprattutto americana la sonda Dawn che ha utilizzato il motore a ioni per riuscire a mettersi in orbita intorno ad un asteroide e poi ripartire cosa che non era mai stata fatta prima e quindi anche lì un piccolo dimostratore tecnologico verso il futuro comunque il motore a ioni al momento quelli che vengono prodotti non sono abbastanza potenti qual è la spinta che si richiede per far funzionare Ares come nel film The Martian bene due millimetri al secondo quadrato non è una di quelle accelerazioni che richiedono una Ferrari tuttavia spingere fare accelerare una sonda di 150 tonnellate che sarebbe il peso della Ares di due millimetri al secondo quadrato beh al momento motori a ioni capaci di fare questo non ce li abbiamo ma è più una dimensione un problema di dimensioni che di concetto cioè la tecnologia il concetto tecnologico c'è è questione di realizzarlo con questo concludo e se volete possiamo anche farci qualche domanda grazie grazie mille e allora intanto c'è qualche domanda nel pubblico preparatevi ma io comincio a farne una visto che stiamo parlando anche del futuro soprattutto rispetto ad una missione umana che si spera prima o poi verrà fatta anche se non sappiamo bene quando beh questa ci sono varie ipotesi su dove potrebbe essere inviata certo adesso dopo questa scoperta uno così a naso verrebbe da pensare che la cosa più logica sia che che tutti adesso cominciano a pensare di mandarla da quelle parti però non so voi pensate che questa cosa dovrebbe effettivamente cambiare e dovrebbe diventare realisticamente il primo obiettivo il primo luogo dove si può pensare di mandare una missione umana oppure magari ci sono degli altri fattori che rendono difficile che il primo tentativo venga fatto in quella zona lì se mi dai il tempo perché la risposta alla tua domanda è scusate l'unica cosa parlate sempre nel microfono perché sennò non viene registrato quello che dite perché registrano dall'interno del sistema quindi anche se parlate a voce alta se non parlate nel microfono non viene registrato ed è un peccato obbedisco solo un secondo che trovo l'immagine giusta che è questa ok ah devi fare forse presentazione modalità presentazione hai ragione bene non è questa ok questo è uno dei concetti tecnologici di come si possa andare o diciamo verso l'uno o anche verso Marte è uno dei possibili ma quello che voleva arrivare alla fine era questa immagine qua allora attualmente il concetto diciamo che va per la maggiore nelle agenzie spaziali e questa è una differenza che poi è importante rispetto all'altra parte del mondo che si è sviluppata per lo spazio è di superare il concetto della stazione spaziale internazionale fare una stazione spaziale intorno alla luna poi chi vuole andare sulla luna va sulla luna e gli europei sono almeno l'agenzia spaziale europea con i tedeschi sono interessati a questo una parte degli altri europei no non troppo almeno e oppure arrivare dalla luna partire per andare verso Marte e non necessariamente atterrare direttamente su Marte ma andare a una stazione interplanetaria intorno a Marte che può essere o tipo stazione spaziale internazionale oppure un habitat su Phobos una delle due lune di Marte e da lì scendere con delle navette sulla superficie tornare e ritornare verso la Terra eventualmente perché è questo? perché mentre partire da un pianeta che sia la Terra sia Marte e mettersi in orbita richiede anche degli aggiustamenti di aerodinamica sulla Terra è fondamentale e su Marte un po' di meno ma è importante e in più bisogna vincere le forze di gravità rispettiva muoversi da una stazione spaziale intorno a Marte a una stazione spaziale intorno a Luna è un muoversi senza dover vincere inizialmente la forza di gravità che significa poter raggiungere quelle velocità e quelle masse di cui accennava Roberto prima per Ares in maniera molto più semplice lasciando a cose piccole di andare su e giù eventualmente non necessariamente sempre manned sempre umane dei robots comandati da remoto cosa che si possa fare quindi questa è una delle strategie che si sta pensando di queste strategie la parte dei lanciatori al momento comincia a essere disponibile cioè il grande lanciatore di potenza americano SLS sarà provato a metà del prossimo anno la capsula Orion che è la prima capsula NASA di dimensioni grandi sette persone circa sarà ugualmente provata senza astronauti col primo lancio di SLS si farà un giro intorno alla Luna e tornerà verso la Terra peraltro avremo un nostro CubeSat italiano che farà l'imaging della separazione che là si sta realizzando in questo momento poi il passo successivo in questo momento è come dire Brancola un po' nel buio su quando si farà perché il punto è poi avere i fondi per poterlo fare però questo è uno scenario abbastanza credibile e di cui a parte il discorso che faceva giustamente Roberto sui motori è la propulsione ionica che diciamo è il passo necessario perché con la propulsione chimica poi ci si è fondamentale la propulsione chimica per lasciare la superficie del pianeta per superare la gravità perché la spinta che ci serve per fare quello è soltanto al momento con quella con quella chimica ma per muoversi nello spazio è molto più vantaggioso il motore a ioni decisamente l'altro scenario che ti volevo far vedere era era sì queste sono le dune di Marte che non mi si muove ma questo lo sappiamo e l'abbiamo visto in The Martian tra l'altro la anche in The Martian questa serra che hanno utilizzato è quella che si sta provando a NASA e più piccole le stiamo anche realizzando in Italia a Torino presso la Tala Storino no quello che volevo pensare agli asteroidi che è l'altra grande frontiera dell'esplorazione e soprattutto a quello che si fa ovvero quella che è la missione di SpaceX che è un qualcosa che sta cambiando molto rapidamente il panorama in cui si si muove a livello mondiale ovvero l'entrata dei grossi privati SpaceX Blue Origin dall'altra parte e così via sta accelerando in maniera paurosa la parte di esplorazione molto più che non la parte scientifica di ricerca scientifica perché la parte di esplorazione significa uomini uomini significa anche un introito economico per chi va e quindi lo sta facendo per quello ma SpaceX ha un orizzonte temporale che è uguale a quello di The Martian in effetti il 2035 che è il momento di massimo avvicinamento tra Terra e Marte è un momento ideale poco prima e poco dopo di quello anzi un po' prima i prime cose proprio per arrivare a portare come è nell'idea di SpaceX delle capsule con circa 50 uomini a bordo più di una partiranno tutte quante insieme e l'idea è quella di alla fine di arrivare a una situazione come questa di questo genere ovvero ad avere una cupola o un qualche zona protetta dalla radiazione in cui l'atmosfera può rimanere intrappolata e avere delle astronavi che partono dalla superficie arrivano in orbita e dall'orbita vanno poi su navi spaziali veri navi spaziali che portano poi verso la terra su questa cosa qua ci si sta già lavorando tanto e devo dire che alla fine quello che io personalmente vedo come futuro sarà una certa convergenza tra la visione delle agenzie spaziali ovvero di chi risponde dei soldi pubblici e di chi risponde però soltanto dei propri soldi come nel caso di SpaceX per trovare un'architettura che funzioni più o meno congiuntamente e in effetti già ad oggi tutte le parti in comune ovvero per esempio i portelli di aggancio tra stazione spaziale e le capsule che fa SpaceX sono ovviamente standard sia per gli europei che per i cinesi peraltro e quindi pensate che questo potrebbe anche portare a dare un'occhiata al vostro lago? Come dicevo trivellare sotto un chilometro e mezzo di ghiaccio non è facile nemmeno sulla terra e farlo su Marte richiederebbe probabilmente una spesa superiore a quella del concetto attuale di sample return cioè di andare a prendere un campione e portarlo a terra per questo bisogna riflettere tuttavia le idee incontrano sempre diciamo le novità le nuove scoperte hanno sempre bisogno di un periodo di sedimentazione ma alla fine qualcosa emerge così come la scoperta del metano nell'atmosfera di Marte nel 2006 poi alla fine ha portato a ExoMars Orbiter schiaparelli tacciamo di schiaparelli ma la vera scienza è quella un decennio dopo così io mi aspetto che ci sarà un tempo fisiologico minimo per riuscire a digerire questa informazione soprattutto per esplorare le implicazioni e sperabilmente trovare un modo meno faticoso di accertarci di quale sia il contenuto di questo lago se fossimo sulla terra cioè se ci fosse del ghiaccio che in qualche modo o meglio se ci fossero dei gradienti di temperatura delle differenze di temperatura tra sopra e sotto tali da da produrre con convezione cioè da avere del movimento all'interno del ghiaccio anche se su tempi geologici su tempi lentissimi quindi celle convettive che fanno da nastro trasportatore portano in comunicazione ciò che è sotto con ciò che è sopra allora potrebbe anche bastare prendere del ghiaccio lì in superficie analizzarlo e cercare tracce di vita che ovviamente magari sarà già morta da un pezzo ma comunque di cui restano abbondanti evidenze in forma chimica se questo non è il caso quindi il regime diciamo termico della crosta ghiacciata della carota ghiacciata non è sufficiente innescare la convenzione e allora lì la faccenda si fa più complicata e bisogna cercare di trovare qualche altro modo forse non lo so a volte io ho sentito parlare di un concetto di prendere una palla di materiale radioattivo poggiarla sul ghiaccio aspettare che il calore che genera faccia sciogliere fino ad arrivare dentro certamente non è il massimo dal punto di vista della biologia diciamo non penso che sia una cosa simpatica fare il nostro primo incontro con la vita su Marte sterminandola a colpi di radiazioni però potrebbe essere un modo di superare il problema di creare un oggetto che trivella fisicamente fino al lago ed estrae un campione non lo so è tutto da immaginare questa è la realtà la cosa è troppo recente perché qualcuno abbia le idee chiare io mi aspetto che salti fuori qualcuno tra qualche tempo con qualche idea vorrei esserne parte possibilmente però se poi lo fanno in Cina o lo fanno in Australia o lo fanno anche negli Stati Uniti è probabile di no speriamo che succeda in Europa allora altre domande anche Carla tu hai qualcosa? voi? prego potete un attimo arriva il microfono sì io volevo fare una domanda in merito ai perclorati io ho letto diverse informazioni riguardo appunto al perclorato di sodio e al perclorato di magnesio e volevo chiedere in base a quello che lei diceva prima se quindi si dovesse andare più a fondo delle informazioni voi vi siete già fatti delle idee o delle teorie di come può essere si può essere evoluta la vita visto che i perclorati sono altamente pericolosi o tossici non so come definirli tossici eccetera eccetera e poi nel caso in cui andiamo per scontato che domani possa partire una missione con delle persone che vanno su Marte come possono risolvere la questione dell'atmosfera la questione un po' di tutto perché poi un discorso è sì va bene prendere partire che non metto in dubbio che sia complicatissimo prendere e andare su Marte però poi devono anche sostare con le condizioni della vita che c'è nostra vita su Marte su questo probabilmente non sono la persona più adatta a rispondere non essendo diciamo un biologo e non so se qualcuno ha in mente qualche cosa da dire a me risulta che ci siano dei batteri che utilizzano i perclorati nel loro metabolismo cioè che per quanto sia tossico per la maggior parte delle specie viventi ci sono invece alcuni batteri che si sono adattati e lo utilizzano invece come diciamo come per il proprio metabolismo però altro non saprei dire per la seconda parte della domanda anche lì quello forse Enrico è la persona che ne sa di più perché volevo dire anche che probabilmente si possono utilizzare anche delle specie vegetali particolari per bonificare il terreno in questione e per utilizzarlo poi lo scopo magari per produrre delle piante utili per noi ecco però c'è tutta una parte ancora in fase di studio non saprei neanche dire preciso quale specie ecco allora è vero quello che è un discorso che il perclorato non è un ambiente proprio ultra favorevole ma appunto già sulla terra esistono estremofili che vivono in condizioni anche peggiori di questa una cosa sicuramente negativa del perclorato è che quando si scalda e si esibili la clorina a quel punto è veramente un problema ed è uno dei problemi che hanno avuto i viking con le con la strumentazione per cercare la vita perché utilizzavano dei fornetti che alzavano di molto la temperatura e quindi ammessero a concesso che ci fossero state molecole organiche sarebbero state distrutte dal cloro libero in quel momento tant'è che l'unico strumento che ha dato un'informazione apparentemente positiva nel senso di vita era l'unico che non aveva questo tipo di tecnologia a bordo c'erano quattro e due erano sicuramente così per quanto riguarda invece il discorso della vabbè se c'è del ghiaccio che sia con sali o senza sali nel momento in cui lo scaldo e ho l'acqua liquida posso purificarla e poi produrre per diciamo tutti gli elementi che voglio da quello che sta dentro quindi potrei filtrarlo e sono tutte tecnologie che già esistono normalmente sulla terra gli impianti chimici fanno anche di molto di più come livello di complessità per quanto riguarda la purificazione di liquidi e di gas quindi non sarebbe un grosso problema il vero problema è accedere a una zona in cui il ghiaccio sia facilmente raggiungibile ed è uno dei motivi per cui non si sta pensando certo la tripelazione a un chilometro e mezzo per una possibile emissione umana di lungo periodo quindi una colonia permanente ma di atterrare in una zona periglaciale nord dove già abbiamo delle indicazioni da Sharad per esempio che ci siano ci sono dei ghiacci relativamente vicini alla superficie su una zona magari coperta di debris di qualche decina di metri solamente e scavare brutalmente prendendo il ghiaccio e poi fargli tutto il resto del processing ci sono altre domande da vera sì lì no no nel microfono nel microfono non vorrei andare fuori tema però da quello che ho sentito oggi mi sembra che le due caratteristiche sia nella ricerca della vita per generare un habitat oppure per trovare una storiografia della vita siano la presenza dell'acqua anche in forma solida come il ghiaccio d'acqua e appunto la presenza del metano questi sono due elementi che ci sono per esempio anche su un satellite di Saturno che è Titano allora mi domando se le agenzie spaziali che stanno indagando appunto in questo verso ovvero verso questa astrobiologia e si stanno anche dedicando poi da un punto di vista tecnologico come per esempio l'agenzia privata a poterci andare se anche in Titano si vede una forma di laboratorio della vita come in questo momento viene visto Marte si diciamo ha toccato l'altra corda del mio del mio excursus di studi che è la missione Cassini di lavoro di missione Cassini allora uno dei motivi per cui si immaginò a suo tempo di fare Huygens ovvero il lander che è atterrato su Titano la missione Cassini era proprio quella che dai dati dei Viking dei Voyager sembrava che l'atmosfera di Titano fosse un'atmosfera di tipo prebiotico ovvero simile a quella che aveva la Terra prima che arrivassero le forme vegetali e quindi mettessero ossigeno nell'atmosfera in effetti quello che poi abbiamo trovato è una situazione di quel genere con però il fatto che proprio perché uno dei satelliti di Saturno è estremamente lontano dal Sole quindi ha temperature estremamente basse che a priori non impediscono la forma la possibile formazione di catene organiche complesse fino a poi alla vita quello che sappiamo oggi è che sì il metano è abbondante tant'è che sui laghi di Titano possiamo riuscire anche a determinarne la profondità la batimetria quindi non solo a determinarne le dimensioni con l'osservazione di un altro radar sempre tra l'altro in buona parte italiano ma anche a determinarne la profondità e quindi la quantità sappiamo che c'è metano ed etano il metano però nel caso di Titano si pensa che sia un metano non di origine anche perché è talmente tanta la quantità che ben difficilmente una vita organica avrebbe potuto produrne così tanta in quelle condizioni di temperatura quindi avviene in altre condizioni è avvenuto o avviene in altre condizioni dalla diciamo fotodissociazione di molecole di altro genere o fotoricombinazione fino a pensare a processi tipo quello della serpentinizzazione che è uno dei processi in cui si ferma il metano in cui se ho una roccia di tipo basaltico e l'acqua in pressione poi produco diventando serpentina produco metano quindi ci sono altri possibili fattori che formano il metano e tuttavia proprio il fatto che è stato confermato quella che erano invece le ipotesi un po' fantascientifiche degli anni degli anni 80 a valle delle missioni Voyager per Titano e che abbiamo trovato un'altra situazione altrettanto complessa su Encelado un altro dei satelliti di Saturno dove c'è un oceano di acqua liquida sotto una cinquantina di chilometri o forse meno di ghiaccio superficiale ghiaccio quasi essenzialmente di acqua pura in questo caso i sali sono molto pochi sono stati osservati ma sono molto pochi e ha fatto sì che questi due corpi venissero classificati come protetti dalla planetary protection ovvero da una regola che è adottata da tutte le agenzie spaziali e promossa dalle Nazioni Unite dal COSBAR per conto delle Nazioni Unite ed è il motivo per cui abbiamo fatto finire la missione di Cassini con un tuffo dentro Saturno e quindi con una totale distruzione in elementi minimi di tutta quanta la missione perché mentre Huygens l'avevamo sterilizzato nella sua parte superficiale Saturno Cassini non era stato pensato per essere sterilizzato e quindi l'unica maniera per sterilizzare e dissolvere il tutto era quello di entrare ad alta velocità nell'atmosfera e bruciarsi nell'atmosfera di Saturno senza alterare l'ambiente possibilmente con vita dei due satelliti altre cose se non c'è un'altra cosa concludiamo con un'ultima domanda che a questo punto è doverosa insomma abbiamo visto che ci sono delle idee sul futuro e che però c'è anche una data che vabbè non è categorica ma che insomma è particolarmente importante perché consentirebbe di fare le cose in condizioni particolarmente favorevoli è una data che non è vicinissima ma non è neanche poi così lontana da dati i tempi che ci vogliono per pianificare queste missioni quindi la domanda è quando ci credete da 1 a 10 credete che lo faremo davvero che quindi nel 2035 si parte davvero per Marte quanto ci credete insomma personalmente ciascuno di voi chi mi conosce sa che io non sono un ottimista in effetti la mia principale preoccupazione è che noi evitiamo di autodistruggerci nelle prossime decade visto che sia come paese che come mondo nel suo complesso siamo sempre più impegnati a spiraliggiare verso il basso nell'odio e nel rifiuto della realtà in effetti il cambiamento climatico che è una di quelle cose che mi fa sperare mi fa diciamo per il quale spero che ci siano dei cambiamenti è l'opportunità per sviluppare una visione nuova internazionale di cooperazione eccetera ma anche lo spazio lo è ecco io credo che sotto la pressione di quello che sta cambiando nel nostro mondo di tutte le complessità che dobbiamo imparare a gestire a livello globale sia possibile sviluppare una collaborazione e che lo spazio possa avere un grande ruolo nel favorire questa collaborazione in un contesto in cui invece di come dire avere dei leader che sono evidentemente dei soggetti psichiatrici con forti tendenze sadico-anali diciamo vecchia terminologia freudiana diciamo avessimo dei leader un po' più illuminati allora le cose sarebbero possibili però se invece noi effettivamente dobbiamo dare sempre retta al nostro lato più come dire regressivo allora questo non si svilupperà diciamo che io credo che questo succeda se l'umanità decide di sopravvivere bisogna che ti faccia conoscere il mio amico Antonio Serra perché quanto a pessimismo è un bel match comunque quella della Bonelli va bene Enrico invece? diciamo sono appena appena ma caratterialmente più ottimista di Roberto per cui no condividendo tutte le preoccupazioni sui cambiamenti climatici e sulla scarsa lungimiranza diciamo di chi governa in questo momento le cose del mondo però osservo e anche perché diciamo fino all'altro ieri questo è stato il mio mestiere quindi e continuo a farlo nonostante il pensionamento osservo che c'è una certa volontà e accelerazione da parte di NASA sicuramente da parte dell'ESA per quanto la cosa sia poi sempre mediata dalla necessità di condominio e delle discussioni condominiali di cui parlava prima Roberto sicuramente da parte dell'ASI almeno fino a tre mesi fa due mesi fa e di altre anche di altre agenzie della Cina sicuramente per quanto riguarda almeno lo spazio circolunare di andare avanti la NASA ha cambiato completamente i propri programmi per fare il Mars Sample Return all'interno della prossima decade e questo è già un cambiamento di rotta pesante cancellando anche alcune missioni già immaginate per spostare i soldi sul Sample Return la missione Mars 2020 sarà la prima missione che prenderà dei campioni e li lascerà sulle superfici per essere poi ripresi e portati a terra e quindi è quella già in fase di realizzazione l'ho vista non più di tre settimane fa il JPL il rover ormai quasi completamente assemblato e poi c'è SpaceX che ha una roadmap che è estremamente stringente e che porta a quelle date anzi loro dicono un po' prima pensando al 2035 come ultima possibilità ma parlano di almeno quattro anni prima per mandare l'uomo su Marte quindi abbiamo tutta una serie di condizioni che salvo suicidi dovrebbero far arrivare a quella possibilità lì in maniera seria dal punto di vista tecnologico effettivamente l'unico scoglio che dobbiamo superare è quello di dimostrare di poter ripartire da Marte e tornare a terra il resto grosso modo sappiamo fare tutto ok dico qualcosa anch'io mi accodo a quanto ho appena detto Enrico e aggiungo che forse è necessario anche che tutte queste cose siano anche conosciute da chi non lavora solo in questo ambito perché non c'è niente per spingere qualche cosa che ci sia un interesse generale da parte di tutti a portare avanti queste tecnologie invece che remare contro io sono ottimista anche perché il fatto che scrivo di fantascienza ambientata nel futuro e voglio che sia realistica significa che sono ottimista perché penso sì su Marte ci andiamo ci andiamo presto vorrei vederlo durante la mia vita possibilmente quindi prima è meglio è e sono convinta uno dei motivi perché lo faccio sono convinta che se lo vogliamo tutti quanti può essere possibile più persone lo vogliono più si può si può ottenere come risultato bene noi qui infatti ci proviamo a diffondere un po' le idee allora prima di concludere ricordo quindi a scanso di equivoci i nostri due recuperi in cui avremo anche occasione di dialogare con Carla per i nostri studenti che saranno quindi ripeto venerdì da mezzogiorno diciamo all'una e mezza per il un anno e salvo diverse comunicazioni lunedì dalle nove alle undici diciamo anche qui dalle nove e mezza alle undici insomma per il secondo anno poi appunto mercoledì 12 ripeto è il termine ultimo per comunicarmi chi vuole partecipare alla gita all'osservatorio di Merate dove andremo a vedere Marte al telescopio detto questo non mi resta che ringraziare tutti per la partecipazione ovviamente i nostri relatori augurandomi che come già è successo con molti altri possano diventare degli amici che incontreremo di nuovo anche nel futuro grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno con quel che resta della luna grazie a tutti grazie a tutti